ciao aspetta che sto accendendo ragazzi buonasera siamo tornati siamo tornati live io sono tornato a casa mia non sono più un trentino e tutto ciò mi dispiace direi perché si stava abbastanza bene direi abbastanza bene te come stai mullato a posto si si diciamo di si dai qui ragazzi in chat come è buonasera ragazzi sono tornati gli abbonamenti su youtube è tornato il canale quindi il canale è monetizzabile quindi per chi si vuole abbonare chi ci vuole sostenere insomma potete fare donazioni potete fare cosa vi pare allora aspettiamo aspettiamo un centinaio di persone connesse siamo a 40 buonasera francesco buonasera buonasera fede è fatto e salite più veloci te di lanta asciugare il po' no allora i giri che ho fatto sono stati belli perché ho fatto il Sella Ronda che è il Gardena, Campolongo, Pordoi, Passo Sella l'ho fatti sia da un lato che dall'altro poi un giorno ho fatto ho allungato sono andato con la macchina a Corvara ho fatto Campolongo, Passo Jau, Falzarego che poi termina sul Valparola e poi ritorno a Colvara e l'ultimo giorno ho esagerato perché ho fatto Malga Ciappella cioè la marmolata Passo Fedaia ho fatto Gardena sono partito da Servadevar Gardena Passo Gardena Campolongo Fedaia Malga Ciappella ragazzi è imbarazzante è veramente una cosa non lo so se è più dura quello al Mortirono ho fatto tutti e due sinceramente non lo so ma il Fedaia è veramente tosta e poi dopo sul finire tutto il Passo Sella che vive a Pordoi e poi Passo Sella bello bello ragazzi fate le Dolomiti perché è un'esperienza ho panorami fantastici Fede meglio di Carapaz Carapaz è ritirato dalla Vuelta con zero punti direi imbarazzante era un rischio ponderato un po' è stato il Lopez del Tour de France in pratica Fedaia terribe sì ragazzi Fedaia è veramente cioè da Malga Ciappella io siamo stati in una decina a farlo quel giorno lì cioè no non abbiamo visto la caduta della Paternoster che è successo? si è fatta male? non è grande aggiornateci sulla caduta della Paternoster no non l'abbiamo vista il Sella Ronda va moltissimo in mountain bike ultimamente tanti con la bici pedalata assistita ho trovato in mountain bike allora il Mortirolo non molla mai il Fedaia da Malga Ciappella fa paura sì però però la differenza tra il Mortirolo e il Fedaia è che allora il Fedaia se si fa la strada vecchia tra i Serrai cioè quelle rocce che è un po' più duretta io ho fatto la strada quella nuova diciamo fino a Malga Ciappella è pedalabilissimo poi dopo c'è sto cazzo di rettilineo che dura 3 km 15% fisso invece il Mortirolo pur essendo 12 15 16 18 però è tutto curve e quindi ti dà modo di respirare di più comunque chiuso il preambolo sulle salite perché è bello parlare di ciclismo però bisogna anche un po' praticarlo quanto è brutto Van Sevenant quanto vedala effettivamente non è il massimo dell'estetica Van Sevenant allora Bulla io direi sintesi cosa si parte dalla Bretagne classic ma io la vuetta non ho neanche guardato la vuetta poi te la faccio vedere dopo ho fatto una bella sintesi me ne frega proprio niente mi fa schifo stavolta appena oggi ho avuto la possibilità di cambiare di guardare il Bretagne ho guardato il Bretagne tutto ma quanto è brutta questa volta infatti appena ho avuto l'occasione ho cambiato il canale e arrivederci alla guerra se posso nel frattempo nel frattempo Baccani puoi tornare a donare se vuoi sto scherzando dona su Paypal che è meglio per lo meno ce la divano tutti allora detto questo video file allora iniziamo io inizierei dal appunto dal dal Bretagne classic eccola qua allora il percorso più o meno è sempre aspettiamo un attimo il percorso più o meno è sempre quello di tutti gli anni sono 250 km non c'è mai un metro di pianura tutti i murettini up and down up and down però la differenza è difficile la differenza la differenza è difficile farla però però la tendenza degli ultimi anni anche se poi molto spesso si è risolta in volata o comunque a gruppo ristretto ci provano un po' di più negli ultimi anni a fare un po' di casino rispetto al passato e quindi questa 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 cosa mi piace il circuito l'ultima salita non è difficile non è niente di che comunque questo era il percorso partono questi quattro uomini tra cui Hermans e De Marchi sono i principali diciamo favoriti di questi quattro fanno una grande fuga poi a un certo punto su un tratto di Rubinou cioè il tratto di sterrato parte alla Philippe con Honoré e dietro Pogacar e Confrois quindi questi quattro se ne vanno e mancava 90 no 67 no 67 no 60 90 e Maika 90 e Maika 68 68 km all'arrivo mi sono confuso con Maika che ha fatto 90 km di fuga da solo 67 68 km all'arrivo partano questi e cercano di andare a recuperare il duo De Marchi Hermans e quindi se ne vanno questi quattro e lì per lì ho detto vai Pogacar se la va a giocare anche oggi e invece Pogacar dopo una ventina di chilometri qui nel frattempo c'è una mucca bellissima questa scena Pogacar ci stava dai si sapeva Pogacar aveva detto che aveva fatto un mese di ferie praticamente quindi dai se noi guardiamo e cosa ha detto Moulin? no aveva dichiarato che aveva fatto parecchia festa e praticamente un mese di quasi ferie quindi rientrava oggi quindi dopo se vinceva era veramente fuori dopo le mucche dopo le mucche e Tepstra che se la va a giocare con le mucche si stacca Pogacar a 45 km 48 in realtà km d'arrivo si stacca Pogacar quasi inaspatatamente De Marchi rimane da solo nel frattempo il terzietto con Frua Honoré e Alaphilippe recupera Hermans piano piano si riportano su De Marchi e inizia con Frua ad attaccare a 22 km dall'arrivo perché diciamo temeva il giochetto Honoré alla Filippe nel trio di test e quindi ha deciso di attaccare cercando di far fuori un'orecchia dei tre quello che andava meno chiaramente nel frattempo dietro e questo mi ha fatto un po' tra virgolette incazzare Barghil e Madoua scattano più volte per cercare di recuperare avevano 40 secondi è sempre oscillato da un minuto e mezzo a 50-40 secondi il vantaggio della Filippe per tanti chilometri e però non sono stati buoni a fare la differenza di dire Barghil ci ha provato diverse volte ma niente e con Frua dopo essere scattato si gira perché la Filippe non collabora perché aspetta Honoré lo manda un po' a quel paese e poi rientra Honoré che tira praticamente tutto il pezzo finale fino alla volata e poi la volata viene vinta da Con Frua su Alaphilippe che sembra sembra avesse un rapporto un po' duretto ha detto che ha avuto crampi non sembra che lui rientrava la differenza è che lui rientrava oggi e Con Frua l'aveva preparata per vincere la differenza è quella si infatti si è visto è andato è andato bene è Con Frua quasi inaspettato ora ti dico la verità io me l'aspettavo un Con Frua che tanto che non lo vediamo vittorioso comunque all'altezza della situazione allora ma Pogacar soffre un po' gli sterrati anche alle strade banche si è staccato in un tratto di sterrato su un attacco di vande no vabbè il tratto di sterrato Simone è Santemaria non mi ricordo dov'era o le tolpe comunque è un 20% di sterrato no questo sterrato Pogacar poi non si è staccato sullo sterrato si è staccato in un pezzo di strada normale quindi non aveva non aveva la gamba è arrivato a 6 minuti è arrivato il Bretagna è come la Trubro Leone mi tirerebbe la diretta dei retornificati verissimo Alaphilippe ha dote nel farsi purgare nel finale e ha preso un po' il vizio Alaphilippe is the new Matthews ora aspetta dai c'è ancora strada da fare dopo duro nel piede per aver superato i 200 chilometri ha patito abbiamo capito che è umano anche lui meno male più che altro non si era allenato bene aveva più che altro festeggiato nell'ultimo mese lui che diventa umano mentre bene torna a essere un cannibale poi ne parleremo dopo allora questi sono i top e i flop del del Bretagna eccolo qui allora Confra ha preso un più 3 Alaphilippe più 2 siamo stati combattuti tra metter più 2 e più 1 onestamente perché Alaphilippe però ragazzi ha attaccato quasi 70 km dall'arrivo praticamente la De Kooning ha fatto una gara spettacolare perché Ballerini e De Klerk dietro rintuzzavano tutti gli attacchi quelli di Barghil di Madua la De Kooning ha corso in maniera perfetta è mancato un po' di energia negli ultimi 50 metri alla Alaphilippe quindi comunque la gara l'hanno fatta bene sia lui che Onoré secondo me meritano un più 2 onesto proprio anche se alla Alaphilippe è chiaro che primo, secondo o terzo ci stava tutto se arrivava a decimo era un flop però insomma è andato bene Eiter è arrivato quarto ragazzi questo è forte gli abbiamo dato un più 2 perché in realtà magari meritava anche un più 1 perché non si è mai visto ha fatto la volatina alla fine però questo è forte e in prospettiva finale di stagione un più 2 ci sta Bonamore Swift comunque sono buoni corridori Bonamore era colui che andava fisso in fuga al Tour de France aveva già preso una plus valenza mentre Pogacar meno 3 io non l'avrei messo ti dico la verità sono onesto dai inutile non l'avrei messo perché non era il favorito non gliene fregava niente quindi non so perché l'hai voluto perché l'hai voluto calare perché è giusto perché perché è giusto perché un corridore che costa 65 il più di tutti in assoluto e praticamente è al massimo perché un corridore non può costare più di quella cifra lì appena fai una gara dove comunque è chiaro se fai una Paris Giroubet non ti posso calare a Pogacar perché non è la tua gara ma qui e l'ha dimostrato perché attaccare ha voluto attaccare quindi ha dimostrato che poteva essere una gara per lui non aveva la condizione se te ti presenti non hai la condizione la paghi e quindi è giusto un meno 3 perché ragazzi troppo o meno 3 va bene è tanto ma ragazzi Pogacar costa più di tutti 65 costava e quindi chi l'ha voluto comprare per questa gara o chi già ce l'aveva è un rischio cioè è un rischio è come se è come prende Roglic per il Tour de France Roglic per il Tour de France è un corridore costoso ma automaticamente ti deve fare un risultato più o meno buono e se Roglic si ritira perché fa zero punti una minus la prende Pogacar non è cascato non si è ritirato non aveva la condizione questo tra virgolette tra virgolette è grave tra virgolette Pogacar poi è un fenomeno Ulissi meno 2 perché non si è mai visto è arrivato nel gruppo dietro non si è mai visto e aveva anche una buona condizione perché è venuto non per venire poteva essere la sua gara questa perché non è dura strappettini niente Godou francese correva per la FDG che voleva fare bene Madoua e Godou Madoua si è visto Godou quasi mai e quindi meno uno Daniel Martin questa poteva essere la sua gara ma non è in condizione meno uno Indley perché lo continuiamo a dire no allora Indley è arrivato con Ulissi innanzitutto quindi non è che è arrivato a 10 minuti volendo poteva fare anche qualche cosa nel frattempo che le grande si è meno uno giusto e volendo poteva fare anche qualche cosa però Indley lo sai qual è il motivo il motivo è che all'inizio dell'anno è stato sopravvalutato ha fatto una stagione di basso livello e quindi lui sta sta calando e sta tornando a un livello di costo meritevole cioè 20 25 22 più o meno quindi piano piano sta calando è un rischio prendere Indley però se fa bene poi verrà aumentato chiaramente e Barghil perché essendo un brettone a Barghil è giusto perché ci ha provato più volte ha dimostrato di avere la gamba per poter magari stare con quelli con Ala Filippo con Pogac inizialmente ha perso l'occasione ha provato due o tre scatti hai perso l'occasione sei arrivato esimo e paghi con una minusvalenza Indley fa bene se torna la pandemia Piazzano ha smesso il Zucca la pugna e Pogac si ha messo il Zucca la pugna a Pogac Vingegaard più uno no Vingegaard era quasi da minus però ragazzi costa 14 nel senso il costo ha fatto un grand tour de France però il costo è sempre molto basso per dargli una minus non era neanche uno degli strafavoriti onestamente qualcuno ha capito chi è accaduto dove non ha capito qui c'è stata una caduta io so che è accaduto sono caduti quelli della Giungo in pratica no ve la faccio vedere forse però prima poi anche Decker e Ancor quelli che dovevano fare la volata praticamente della Giungo sono cascati nel finale io so di loro della Giungo no comunque questi sono i top e i flop allora vi faccio vedere l'immagine della caduta se ce la dovrei avere che l'avevo scaricata poi ho deciso di non metterla perché non si capiva bene che cazzo era cascato non l'hanno nemmeno mai detto tra le altre cose questa è la caduta praticamente si vede Gheschke che è l'unico riconoscibile poi ce n'è davanti vedete c'è un paio della Giungo è una caduta sì è una caduta praticamente con un gruppo allungato a 3,4 km dal traguardo quindi molto vicino per tanti è andata a farsi benedire la possibilità di fare di provare la vittoria di Tapp o comunque di provare il piazzamento vogliamo parlare della fuga di De Mar di ieri no De Mar è arrivato il quindicesimo non arrivo in salita cioè ultimo della fuga se non sbaglio vabbè ormai si sta sta cercando altre strade dai dovrà finirla la carriera in qualche modo difficilmente per rimanere il treno di Fantastica solo incregando il 6-1 venga il più uno sì allora la vuelta è la volta buona che Guillermo è la volta guarda questo è un argomento inquietante sulla vuelta che non si può non si può così come ti posso dire liquidare con tre parole allora parliamo della vuelta la Bretagna l'abbiamo l'abbiamo sviscerato come tema Bretagne Classic io farei complimenti veramente a Conflat che comunque ha fatto un gran numero perché battere la Filippa allo sprint non è così banale anche se poi lo stesso la Filippa ha ammesso di non essere in grandissime condizioni Maika Paskowski di Padre e Madre Polacca ora arriva Piazzano il Moulin mi ricorda Mass tanto salutiamo anche gli utenti del canale Viola allora io direi così parliamo della vuelta parliamo della vuelta e facciamo vedere un po' di sintesi di oggi una bella sintesi lunga tappa io ecco onestamente io ti dico una cosa Moulin non riesco non mi ricordo veramente un giro a tappe con questo disinteresse così enorme allora io direi disegnata male e interpretata peggio dai corridoi allora ragazzi tapponi non ce n'è più degli obiettivi proprio nel merino da critica infatti hai detto una grande cosa allora poi si guarderà anche le tappe però le tappe della terza settimana ce n'è tre allora la penultima sì la penultima ci sono tante salitelle ma del cazzo praticamente la Movistar la Movistar che poteva non può vincere mettiamo perché Roglic se non crolla vince allora la Movistar poteva arrivare seconda e terza poteva vincere una tappa eccetera eccetera non ha vinto una tappa e rischia di non andare nemmeno sul podio perché per colpa per colpa anche di loro della fuga famosa e Marten sono lì dove sono e ora sarà dura le vostre ritorno in due tappe perché in due tappe cosa faranno mai ma cosa faranno mai cosa fanno partono a 100 km dall'arrivo fanno la fuga ringraziamo Fran Fran Sileo e Sputnik82 che si sono abbonati sul canale Viola grandissimi 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 ad ora veramente la delusione è la Movistar non ha fatto nulla nulla non ha mai provato nemmeno a vincere una tappa una volta con Verona che Verona la vinceva mai la tappa e e una volta con con Mass perché ci si sono ritrovati perché tirava la giungo poi non hanno mai tirato non ci sono mai visti ma cosa ma allora sono sicuro di arrivare sul podio ma allora secondo me questo è il giro del 2010 il giro di Arroyo no? ti ricordi no? che arrivò secondo basso Arroyo basso Arroyo che arrivò secondo e però il problema è che qui di Arroyo ce ne sono due stavolta questo è quanto è vero è vero sì però aspetta quel giro lì c'è lo Zoncolan qui non c'è l'angliero però è uguale non c'è l'angliero comunque arrivò cioè arrivò comunque secondo e ora sono due capito? Roglic è tranquillo Roglic è l'unico tranquillo perché basta che gli prenda altri 30 secondi poi a crono vinci anche l'ultima è tornato Benjamin Thomas in frattempo Martina Alzini oggi è arrivata seconda nella crono del giro di Toscana femminile quindi grandissima Martina se ci sta guardando la salutiamo allora Gino non fa non fa mai fughe Biduone Gino sa quello che fa Mullah se la Movistar fa secondo e terzo si leccano tutti i baffi è probabile allora se lo fa ma questa questa è la tappa di oggi che sulla cartina sembra impegnativa in realtà anche la penultima salita è una salita di media al 4-5% l'ultima salita di terza categoria era banale quella un pochino più difficile erano le prime due dove appunto ora vedremo che Aru e Maika se ne sono andati allora vediamo un tanto il riassunto nel frattempo parliamo c'è stato io parlo solo di critiche critiche basta non ho altro da dire c'è stato c'è stato era una fuga buona per andare a prendere punti Kuz della Cruz Caruso Bardet Isagir vedete che erano davanti per cercare di portare via un gruppetto anche Trentin era davanti che poi a un certo punto fora anche una sorta di ventaglio a un certo punto c'era un po' di casino all'inizio come spesso capita in queste prime tappe della vuelta poi se ne vanno via un altro gruppetto con Nilsson Kron Sivakov Maté e Igor Isagir poi ci prova Pavel Sivakov a 142 km dall'arrivo ancora non erano iniziate le salite e poi sulla prima salita se ne va Maika e Aru qui Aru io sinceramente facevo il tipo per Aru con Van Gils erano in tre io pensavo che Aru potesse resistere un po' di più comunque Maika oggi aveva una gran gamba dietro Kruzvik Bouchard Bagioli Kras Verona e altri si organizzano per andare a riprendere Van Gils non ce la fa a tenere il ritmo di Maika e Aru Maika e Aru se ne vanno nella prima salita Colle di prima categoria vince Maika che tra l'altro torna anche Lizza per la maglia di scalatore tra le altre cose secondo me dopo oggi e qui Maika ragazzi aveva un altro passo oggi Aru è rimasto lì a 20-30 secondi su tutta la seconda salita pensavo potesse anche rientrare a un certo punto perché non aveva tantissimo e poi dopo si è lasciato riprendere dal gruppo dietro che era composto da diversi corridori nel frattempo Maika passa primo appunto sul colle di seconda categoria dietro c'era dietro la intramaché tira mi sta venendo a noi anche la sintesi che sta facendo maika passa primo metti un po' di musica metti un po' di musica sotto è talmente noiosa che sono noiose anche le sintesi capito è talmente noiosa stavate che anche se fai la sintesi non la puoi accettare uguale oggi tanti punti fuga perché la fuga era solo Maika in pratica quindi Kluisvik Bouchard Gorkisakhiri Verona Arendsman Aru e Lopez della Trek rimangono lì poi Aru si stacca e Kluisvik inizia una cronometro uno contro uno contro Maika recupera un minuto in pratica quindi è bellissima questa salita uno dopo l'altro tutti staccati Kluisvik le stacca tutti uno dopo l'altro e cerca di andare a riprendere Maika nel frattempo dietro se la giocano l'intramaché fa il suo va ad andare via la fuga gestisce la gara quelle che devono fare loro non sono loro che devono fare la gara secondo me Maika nel frattempo continua in perterrito a macinare chilometri su chilometri in Cuga ha fatto una gran gara oggi anche Kluisvik che è stato un duello praticamente per gli ultimi 90 chilometri quando Maika è rimasto da solo è stato un duello tra Kluisvik e Maika testa testa il Gran Premio a montagna in prima categoria passa ancora Maika che ha fatto una bella incetta di punti spalloni Kluisvik giustamente spalloni alla Magro alla Magrini musica di Filippo Datti ci chiedono sì va bene qualsiasi tipo di musica una gara di Ander 23 più interessante ma è il live motive della vuelta purtroppo la maglia rossa data a Eking è normale che di questa vuelta di questa vuelta di questa vuelta certo io uso il telefono perché con l'iPad ti sento malissimo va bene va bene va bene purtroppo ragazzi questo è il live motive della vuelta è così Eking e la Intramaché fanno il loro fanno il suo nel frattempo Fora Ciccone a pochi chilometri dalla fine però comunque fa una grande una grande rimonta perché poi riesce anche a piazzarsi bene nella volata del gruppo nel frattempo Maika a 10 chilometri dall'arrivo con un minuto e 40 su Kluisvik era un caldo bestiale perché si vede dalle maniche di Maika tutto il sudore Spalloni piano piano recupera qui vediamo ecco Marcello Stimolano Maika chi era il direttore sportivo della UAE in macchina oggi Mori Manuele Mori Manuele Mori bellissimo che a un certo punto li fassi sentito anche l'audio in diretta dai 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 gli ha detto Kluisvik è vicino ma dopo ti spiego il finale è pisano come voi ha detto dopo ti spiego il finale nel frattempo dietro Mantis prova con De La Cruz prova un po' a movimentare ma poca poca roba succede Kuz come vediamo fa la gara a Seno ne frega un cazzo di Roglic lui secondo me punta la top 10 e Adam Yates ci prova quindi Adam Yates come voleva si dimostrare un giorno va bene un giorno va male un giorno va bene un giorno va male questo è Adam Yates riesce a guadagnare perché ci sono i due gemelli in gara si cambia di giorno in giorno è certo anche se corrono per squadre diverse si scambiano ah che bel sorriso Maika Maika grandissimo sorriso una fuga tanto non si vedeva una fuga solitaria di 90 km proprio 90 km rimasto da solo ma è partito molto prima con Haru arriva a stremato e vince Maika grandissimo ha fatto per chi l'aveva al fantasy hiking e mi ha dato retta e l'ha comprato e l'ha schierato e ha fatto tanti tanti punti Maika oggi vi dico anche quanti punti ha fatto e nel frattempo arriva arriva Kruisvik Maika è arrivato anche il mullale fa tempo vogliamo parlare dell'azione di Adam Yates aspetta Chris Hamilton e ecco qua vai ma stiamo scherzando ma io dico ma stiamo scherzando cioè ha guadagnato 10 e 15 secondi 10 secondi sui cipone che regola il gruppo è cos'è questa cosa cos'è cosa sta facendo cosa che spiegazione può avere una cosa del genere che attacco è che situazione è cosa hai fatto cosa vuoi fare cioè io proprio veramente cioè non lo so sarebbe se fosse il direttore sportivo io direi guarda vai a casa dai torna a casa guarda questa è la dedica aspettate un attimo questa è la dedica al papà che è morto di covid chi è? il papà di Micah ah non lo so io dicevo di Yates no 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 io stavo guardando le immagini ti stavo ascoltando su Yates ma ho voluto fermarvi perché comunque in questo momento qua è anche giusto ricordare qualche cosa e spiegare come mai fa quel gesto lì e adesso torniamo pure a parlare dell'intelligenza di Yates che già sta fatto perché non ci ho fatto caso no su al cielo la dedica al papà sì sì no ma niente ok allora ordine d'arrivo Micah Krusvik 1,27 Chris Emito 2,19 Yates 2,42 guadagna esattamente 15 secondi su Ciccone Haking che grande rivale per quali posizioni ragazzi queste sono cose importanti sono azioni eroiche la definirei un'azione eroica quella di Yates veramente emozionante guarda una cosa meravigliosa comunque Haking ha avuto anche la forza e il carattere di andare a fare la volatina comunque personalità sta correndo contro delle persone che non sanno correre cioè io ripeto ma chi è Haking virgola anzi puto a capo Haking mi sta simpatico mi sta simpatico guarda mi sta simpatico anche a me è simpatico c'è il sorriso simpatico a questo punto spero che vinca Haking non vince guarda non c'è problema no non vince perché c'è la comadunga e un'altra salita è una cronometro Marcello la lezione di questa Rodri ci sta calcolando tutto al millesimo dopo aver avuto una bacchiata l'Altur de France da Pogacar e aver rischiato di perdere la vuerta l'anno scorso da Carapazza perché se c'erano altre tappe in più probabilmente l'avrebbe perso anche lui quindi sta calcolando tutto al millesimo e la vincerà al millesimo probabilmente io spero che Master Lopez non facciano podio perché non si meritano niente niente questa è bellissima è stato per emozionare il GP di Formula 1 oggi ha detto tutto non si è corso no no 4 giri 4 giri perché praticamente avevano fatto la partenza alle 3 e entro le 6 doveva finire per forza perché ogni 3 no ma poi sono partiti alle 6 e 20 ha fatto 4 4 giri dietro la safety car via andare punto di diversità hanno vinto proprio chi cazzo ha vinto? per Stappen quindi praticamente dietro la safety car nessuno si è superato certo ma che buffonata è? beh questo è il fantafone è un altro discorso io pensavo un po' non lo sarebbero fatto siamo messi male parliamo anche di fammi allora alla fine delle due settimane alla fine delle due settimane e vi ripetiamo mancano due tappe con arrivi in salita difficili la cronometro finale e altre due tappe due diciamo da velocisti ci sono due tappe per cambiare la classifica la coba doga e la salita sopra le asturie quella nuova che non mi ricordo che si chiama basta basta ci sono due è due tappe toste e la cronometro finale che faranno per la classifica poi l'altro la crono fa per la classifica perché? solo per l'Ogric per l'Ogric perché poi chi è che va di più di quegli altri? nessuno ma non Bernardo forse guarda Eiching forse Eich spero guarda spero Bernardo Eiching ma è la crono Eiching non ho idea di come va da crono ma io credo che non lo sappia nessuno mi rifiuto di vedere una volta Martè il top 10 qui non si parla di top 10 qui si parla di podio di podio e sarà dura buttarcelo giù te lo dico io perché in due tappe in due tappe non si cambia nulla e anche Eiching sarà dura poi magari crolla prende mezz'ora ma non lo so perché noi bisogna noi bisogna guardare noi bisogna guardare rispetto a Massa e Lopez sì a te considera Massa e Lopez Lopez sono tre minuti e Massa allora sono così convinti loro sono così convinti di dare dei minuti in due tappe minuti tanti minuti dei minuti a Eiching e Martè in due tappe ma siamo sicuri ma loro che ciclismo hanno visto ma chi pensano di essere loro cioè ma davvero ma siamo veramente siamo fuori di testa cioè ma loro secondo me loro hanno si sono montati la testa e pensano che non lo so o che questi due siano due disgraziati che montano per la prima volta sta in bicicletta oppure loro pensano ad essere diventati pantani che vanno in salita non lo so spiegatemelo voi perché secondo me non è così facile buttarli giù questi due disgraziati non è facile ma io ti voglio dire di più ormai sono ormai mi voglio sfogare ma la Vare ma Eiching che c'ha una possibilità una volta nella vita di far podio no ma la Vare ma che cazzo sta facendo no sinceramente manda i fughi suoi manda i fughi suoi migliori l'Anda è più lento in salita dei velocisti ma ritirati ma che stai a fare queste figure di merda cioè ritirati prendi un'ora tutti i giorni ma cosa ci stai a fare poi non fa il gregario non aiuta Caruso che era l'unico che mi sembra che Padun è sparito abituato per il definito poi ora è deceduto sparito non va più nemmeno in pianura cosa come si chiama Caruso che è l'unico che andava no Caruso che è l'unico che andava in salita lo tengono lì frenato e poteva prendere vincere tranquillamente la maglia può a lui no la maglia per scagliere sì sono messi oggi si beccava la fuga invece lo tengono lì lo tengono lì per stare accanto c'è anche Tratnik lo tengono lì Marcello per stare accanto a Jack Keog e poi non fare un cazzo cioè non attaccano per cosa lo tengono a fare per fargli compagnia per fargli lavorare con Valzelletti durante la giornata non ho capito oggi doveva andare via Caruso come lo vedi invece Paduna anche lui Paduna è sparito lo so la Barai non capisco cosa stiano facendo veramente ma loro forse secondo me tutti hanno questa idea malsana in testa che Aking e Marten alla prima salita che trovano prendono mezz'ora non sarà così e quindi tanti si mangeranno le mani per aver aspettato quel momento ora ci rimangono solo due occasioni e arriveranno tanti quinti sesti e setti invece che secondi o terzi questo è questo è quanto poi probabilmente probabilmente Aking e Marten a un tratto si sgonfieranno e prenderanno mezz'ora ma io non ci credo a questo punto penso che sarà dura le valle della top 5 ti dico la verità bene ma tu fai il conto Moulin e Fede fai il conto che la Covadonga che è una salita difficile però non è che ti fa questa grandissima differenza a meno che tu prendi la balla completa tu la Covadonga non fai la grande differenza devi prendere la balla completa e trovare la giornata di sfiga con i nuvoloni che ti fanno abbassare la temperatura di 20 gradi la salita della Sturie nessuno la conosce non la conosce nessuno solo i Movistar la conoscono perché sono andati a provarla però a questo punto però io ho 10 minuti a tutti ma anche 15 ma il problema il problema ragazzi è che io la vedo quasi come il Moula perché non posso vederlo esattamente come il Moula se no non possiamo discutere però il discorso ragazzi cioè io su Roglic non sono così tanto sicuro non sono così tanto sicuro perché questo ha cambiato la preparazione in corsa perché lui a inizio stagione doveva fare fuoco e fiamme al Tour de France vincere una medaglia alle Olimpiadi e salutare tutti fare la vuelta in vacanza una vuelta delle vacaciones adesso io non so col cambio di preparazione tutto come come può reggere la terza settimana cioè quelli che hanno corso in Giappone quelli che hanno corso in Giappone che hanno fatto le Olimpiadi e molti di questi hanno fatto anche il Tour de France sono spariti 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 del tutto ritorneranno poi a settembre per il mondiale e altro c'è anche Pogaccia io non so se prima avete parlato della corsa quella vinta da Cosme Fruat che credo di essere l'unico al mondo che l'ha preso però perché l'ho preso mi sta simpatico perché c'è gli occhiali non per i baffi perché c'è gli occhiali però ragazzi Pogaccia abbiamo perso momentaneamente 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 io su Roglic non sono così sicuro poi magari vince da 20 minuti al secondo al terzo e mi chiedo per sempre però io non sono così sicuro su Roglic no io no sul Roglic ti dico di no secondo me Marcello perché secondo me lui questa volta davvero non vuole proprio per quello non vuole ha paura magari di risaltare alla fine no e quindi sta calcolando al minimo proprio al minimo dettaglio per arrivare alla crono o comunque vincerla senza strafare dai diciamo così io voglio sapere gli altri che potevano fare podio cioè Lopez Mas Eig Yates come da dove gli viene questa sicurezza di poter dare 3-4 minuti o 5 a Eig e Guillaume Martè in due tappe io voglio sapere la domanda mia è questa rispondetemi voi o chi ascolta da dove gli viene questa sicurezza perché hanno snobbato la fuga non hanno tirato un metro nella Ineos che è una squadra è stata una squadra praticamente se la faceva uno che non sapeva niente di ciclismo l'allestiva uno che veramente non aveva visto una corsa forse la faceva meglio a caso scegliendo a caso la Movistar la Baren il giorno della fuga a bidone non hanno tirato un metro non hanno tirato un metro io voglio sapere ora non fanno niente come oggi non fanno niente io mi chiedo un attimo ragazzi potete controllare chi è in chat adesso se non mi chiedo di fare una donazione ma se è possibile fare la donazione donate anche donate anche io ho bisogno del Gepri Cappelli cioè donate a regola dovrebbe essere possibile ora se me lo fate sapere ragazzi in chat grazie vai ecco mentre donate io dico una cosa completare la questione dell'un là sull'esperienza di un altro ciclismo io torno indietro di un diciamo non è possibile cosa non è possibile scusami donare c'è scritto non è possibile ho visto non è possibile e chiudi come per Indaface è possibile ok allora Indaface dona per tutti per lui è possibile Indaface ha donato ragazzi mandate in culo andate sganciala a 100 euro vai bacani sfogati io faccio un esempio di un altro ciclismo di 11 anni fa vale ancora da soldi 11 anni fa quando c'è stata la famosa fuga a bidone di arroio la famosa fuga l'ho detto prima infatti mi sembrava su due arroio due arroio c'era una questione completamente diversa la questione diversa è che nel 2010 la corsa la doveva fare l'allora liquigas l'allora liquigas ha pianificato questo è successo nella tappa dell'Aquila se non ricordo male era proprio la prima settimana o a ridosso o subito dopo ha pianificato tutto ma ha fatto tutto la liquigas ha fatto solo la liquigas c'è stata solo la liquigas ci sono le squadre che si guardano c'è Krusvik che va in fuga Kus che vuole fare la top 10 Adam Yates che va di qua i due Movistar che vogliono arrivare uno dietro l'altro Roglic non ci capisce più un cazzo vince la DSM allora qua c'è qualcosa di strano in questa vuelta nel 2010 liquigas ha messo lì i grandi trattoroni e in questa liquigas c'era Nibali e ha fatto prima terra cioè ragazzi allora io sono anche d'accordo che probabilmente come dicono come dicevano no come dicevano funziona e abbiamo fatto guadagnare 2 euro e 50 YouTube grazie Chiara S Chiara S che no sono bene Kung podio al Benelux ma nemmeno ma nemmeno ma nemmeno ma sì meno sarà che dici sì al Benelux ora dopo si guarda dopo questa diretta è fatta anche per il Benelux la diretta io voglio dire aspetta fammi finire poi basta dai mi chiedo perché sono noioso cioè tante volte cioè a Roio non è arrivato sedicesimo poi alla fine è arrivato secondo cioè quando ti trovi lì davanti primo secondo poi dopo ti trasformi capito c'è qualcosa in più cioè questo il fatto di trovarsi davanti ti dà qualcosa in più capito a livello di a livello di testa e anche di fisico quindi non è cioè mi dà noia l'atteggiamento delle squadre cioè te non puoi essere così passivo non puoi te non li puoi snobbare così loro due non puoi pensare che siano due deficienti messi lì per caso ce l'hai messo te lì ma però ora non è così facile liberarsene e quindi l'atteggiamento così passivo e così tranquillo è mi fa innervosire basta è semplicemente che sto sapendo cioè è veramente ridicolo il messaggio di Dejo di Dejo è vero più che la Movistar e la Jumbo e questo se l'ha detto dovevano tirare la Trek la Stana e la Bahrain perché per non far guadagnare tempo a Marten e Eiching perché non la Jumbo e ci torneranno e arriveranno davanti a quei due è vero ha ragione io dicevo tutti ma io dicevo tutti ma io ho detto Bahrain ho detto la Movistar ti amo è arrivato anche Eiching io dicevo la Movistar e la Bahrain perché avevano avevano Lopez Mass e Eich che erano quelli messi meglio anche gli Eich volendo la Ineos ma chi vuoi che tirassete una Ineos scusa avevano tre cadaveri due dispersi due appagati c'era anche il Mortirolo a Nicolò in quel giro Zuncolò me lo ricordo il Mortirolo non sì facevano il versante quello da un marzo e nonostante è arrivato sono poi arrivati alla prica eh classica tappa Mortirolo io me lo ricordavo eh comunque è vero aspetta poi basta poi basta veramente mi chiedo perché siccome non si è fatto le dirette in questi giorni vogliamo parlare 30 secondi di J. Vine o no di cosa ha fatto penso che non lo so non lo so quanti corridori avrebbero fatto la stessa cosa cioè io penso che l'80% dei corridori si sarebbero ritirati il 20% avrebbero almeno mollato c'ha da guadagnare il contratto per il prossimo anno lui ha firmato un annuale ha rinnovato per due anni la mattina stessa della tappa ah basta allora la spiegazione l'abbiamo già data però ha fatto un incentivo l'incentivo cioè chi è che dopo una caduta del genere dovuta all'inesperienza ha fatto una caduta da imbecile perché ho cioè io ho detto no ma la macchina che gli ha dato il rifornimento era la sua o no non era la sua ma non mi ricordo ho visto sappoggiare ma c'è cascato a me sembrava dell'altecin non lo so cioè ha fatto un errore veramente clamoroso e poi però cioè era in terra sembrava che si fosse rotto eh ragazzi fermi l'acquisto della wealth è stato storer innanzitutto poi maica questo solo perché wine me l'ha rubato io comunque anche wine nel suo l'ha fatto perché costava uno e ha già fatto e non è finita non è finita perché questo non è male io l'avevo detto non è male maica ragazzi giusto per farvi capire guarda c'è troppe robe da dire allora volevo far vedere una cosa poi si ritorna su sulle classifiche si va su prosacristazio e ci si diverte a guardare le ultime tappe e capire che cazzo potrà fare e poi si passa al bene però vi volevo far vedere eh quanti punti ha fatto maica per dire no perché oggi in chat dicevano no eh maica però eh 200 punti e basta costa 30 ragazzi ragazzi maica oggi con eh fughe bidone o meno allora questi sono i punti di confrois ha fatto 417 punti con i 10 di partecipazione i 7 della fuga e i 400 della vittoria ok maica ne ha fatti 231 in una tappa della vuelta perché si è vinto tutti i campi nella montagna i punti fuga e più la tappa cioè ha fatto un play e ragazzi maica ha fatto un gran numero ora se rifà una mezza fuga tu la fai poi oh fanno riviste queste cose eh perché il prossimo anno si è detto che perché vincere la betania classic non può essere simile a parte che non lo è però non può essere simile ha fatto doppio dei punti con Fouan non è non è uguale è una corsa vol tour guarda i punti fuga il prossimo anno si è detto il prossimo anno saranno tra virgolette dimezzati ok quindi maica tecnicamente oggi con i punti fuga della stagione nuova 2022 poteva aver fatto 190 195 punti comunque sempre tanti cioè ragazzi se ne hai meritati questi punti uno che va via 90 lometri da solo passa in cima a 4 gpm primo solo non lo riprendono e va a vincere la tappa se ne merita lo so però non è come una classifica che dura i 20 giorni a fare magari arrivi ottavo e prendi gli stessi punti meno molti meno cioè non lo so io non sono tanto convinto però è la mia opinione allora poi detto questo ora la cosa divertente è capire cosa rimane della vuelta e soprattutto che cazzo farà Eiching quindi ora si apre Pro Cycling Stats e si guarda Eiching innanzitutto l'arrivo di oggi svisceriamo un attimo l'arrivo di oggi soprattutto la maia com diventa interessante secondo me perché ha giocato sia a Fantasaking ma in generale allora questo è l'arrivo di oggi che l'avevamo già visto Roglic 14esimo diciamo tutti i principali favoriti sono arrivati lì insomma non c'è stato niente di che infatti la generale rimane pressoché identica con Maika che recupera due posizioni 18esimo Bouchard 20esimo però insomma la classifica non è praticamente minimamente cambiata ma gli appunti per ora cambia poco quindi io inizio a credere che Jakobsen zitto zitto se la porta a casa se continua così se lascia andare le fughe è probabile l'unico è Magnus sport si riazzecca una fuga grazie Roberto Superu grazie mille quindi Jakobsen attenzione per la com diventa interessante anche Maika che oggi praticamente balza al terzo posto si fa forse non aveva neanche un punto quindi fa 29 punti solo oggi se non sbaglio 28 28 punti solo oggi e praticamente rientra dietro Caruso ora se l'andranno a giocare in tre io credo che Bardet Maika e Caruso e Storer che è il fugaiolo nato se la vanno a giocare questa maglia qua quindi diventa interessante e la maglia bianca sempre Bernard se la giocano loro con Mader si azzeccano a fuga Mader 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 allora guardando Eking chi cazzo è Eking rispondiamo al tormento chi è Eking chi è Eking chi è Eking allora Eking è uno che ha 26 anni quindi relativamente giovane c'ha una faccia simpatica allora andiamo a vedere nelle prove contro il tempo alla volta fa vincere aspetta fa vincere i norvegesi perché vengo ora Cristo e arriva il nuovo Allora alla volta al Garve in una cronometro di 20 km abbastanza anche difficilina con un paio di salitelle è arrivato 74esimo quindi non non è proprio un fulmine di guerra diciamo Eking a cronometro a Bilbao nel prologo di 13 km era un prologo abbastanza dove vinse Roglic Wing Garfoss Pescello Ben McNulty quindi un prologo molto tecnico e difficile Eking arrivò 82esimo poi alla Paris inizia 126esimo alla Hélois de Besège Tour du Gard Hélois de Besège 53esimo nella cronofinale 10 km su 54 cosa? su 54 sì forse quindi quest'anno non ha fatto grandi prove a cronometro nel 2020 penso ancora peggio a corso poco lui in generale fisicamente quanto è alto? quanto è alto? è 182 per 75 kg quindi teoricamente potrebbe essere anche un Bertorello è un Bertorello è un Bertorello perché un 82 dovresti pesare sui 66 67 kg nel 2019 ha fatto ha fatto anche il Tour de France e l'ha finito quindi a 24 anni sì in teoria l'ha finito DF ah Tigne è la tappa annullata per la frana il Tour de Bernal sì 125esimo nella crono di Po di 27.2 km che è già più verosimile a quella di ecco la cronometro di Po assomiglia a quella di Santiago sì però si parla di tre anni fa eh tre anni fa dove lui aveva no 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 prima del Covid prima del Covid sì sì appunto tra oggi e tre anni fa con un Covid in mezzo con il Covid in mezzo e lui aveva venti ventitré anni praticamente nel 2019 quindi era ancora molto scena era era molto giovane già io ti dico io non non so diciamo il crono non ha mai inanellato grosse prestazioni allora allora la squadra la Wonti Inter-Marchais-Gobè eccetera eccetera non non ha cronomen fortissimi e non ha mai avuto grandi cronomen almeno così a memoria anche quando era in seconda serie mi viene da pensare che comunque Valerio Piva che è il direttore sportivo principale della squadra è uno che comunque sa usare molto bene i corridori li sta mettere bene in bicicletta per il cronometro lui era lo storico di essere della BMC ha vinto anche dei mondiali a squadre ma bene c'è un giro che dice grazie davvero a Dennis però faceva andare forte al cronometro anche Daniel Os c'era anche Pinotti che aiutava con lo staff alla BMC è una bella incognita cioè la maglia ti carica la maglia ti carica anche secondo me sai lui sono convinto che quelle crono che abbiamo visto è arrivato ottantesimo novantesimo cinquantesimo se gli davi la maglia di leader li levi perlomeno 20-30 posizioni subito solo con la maglia di leader capito quindi se lui se lui senza maglia senza interesse con le fischiettando arrivo ottantesimo non ho finito non ho finito lui in questa settimana avrà l'aiuto sicuramente di Mainties che comunque qualcosina sa fare in salita oggi ha attaccato l'inquinito oggi ha attaccato Mainties punta un piazzamentino vediamo la comadonga vediamo la comadonga e Petilli Petilli non è malaccio in salita cioè Petilli è uno che comunque può lavorare cioè non stiamo parlando di migliori scalatori al mondo però stiamo parlando di onesti gregari onesti lavoratori cioè Mainties ragazzi avete capito oggi che cazzo ha fatto perché a me mi è sembrato che ha attaccato è andato ma ci sono due vuolta voi non sapete ci sono due vuolta c'è la vuolta di Hacking e poi quell'altra è una vuolta la cazzo che è quella che piace al Moulin perché non si capisce cosa fanno è una vuolta improvvisata è una vuolta ad cazzo grandissimo Mainties Mainties Oscar Pereiro si ha preso mezz'ora Oscar Pereiro 26 minuti non mi ricordo quanto aveva preso Oscar Pereiro è il tour di Landis o sbaglio si però aveva preso 26 minuti mi sembra il cronometro è bruciato è bruciato Luca ti ha preso il sole parecchio parecchio sodio abbastanza si ma hai preso anche una randellata una racchettata di faccia Mainties se non gira a tappo non si verrebbe neanche le vacche della gran metà te l'hai vista oggi la tappa della guerra sì sì abbiamo il 2-20 cosa faceva lì davanti scattava otteneva il ritmo alto per Echi cioè non si è ben capito sto seguito non lo ha capito nemmeno lui per me scattava gli importava una sega proprio di Echi anche l'altro giorno anche l'altro giorno quando ha seguito Marten infatti sì perché lui zitto zitto ma io secondo me il tempo si è arrivato davanti con la maglia rossa rossa Echi mentre se non può correre in fondo quello meno male è un bello stimolo per lui che è abituato a correre in fondo comunque ragazzi sempre meno corridori disposti a fare le gare l'unica squadra l'unica squadra che è veramente squadra è la De Kronik e infatti sempre in tutte le corse e infatti ottiene i risultati migliori di tutti sì anche se oggi è andata male però oggi ha fatto un lavoro di squadra eccezionale perché ha visto la realtà una tappa per loro no no la Bretagna la Bretagna hanno fatto un lavoro ma poi dietro con Cattaneo dietro Ballerini e De Klerk e Cattaneo stoppavano tutti cioè quella è una squadra ragazzi è una squadra bisogna fare anche i gregari non come la Ineos o la Barei dove ognuno fa l'affare suo senza cioè non esiste la squadra è la squadra infatti è giusto che vincano loro prima di andare sul Benelux Tour e poi ci si diverte ma in Belgio ci sono queste salite scusa no non è in Belgio questa è la Wendt allora io non vedo non la guardo nemmeno se mi pagano guarda questa tappa l'ha nata la Wonti tanto bisognata ha fatto una nata epica sì è nata epica grazie a Tacco Van de Hornet tra le altre cose ma sì ma resta bistrattata cioè anche lo Renzo Rota sta andando bene tra le altre cose perché l'ultime gare che ha fatto anche alla San Sebastian è cascato se no poteva anche rischiare di vincere ragazzi questa Wonti è come l'Empoli ti può capitare di battere la Juventus ti può capitare di fare la volta cioè ragazzi delle 19 squadre pro tour è la 19esima la Wonti dai non prendiamoci in giro come no Moulache tutta la Barenca e corre da Gregari ma non mi sembra guarda Gregari cosa significa scusa che fa il re cioè cosa stanno facendo ci sono mai io Tim Cubeca Assos Luca ci saluta ci saluta andaguamo portatemi vino di vino e convivio questo potrebbe essere anche vero stavo sapendo sinceramente ma adesso oltre ai corridori fanno il fake anche delle squadre non lo so potrebbe essere anche vero facciamo una cosa Fede smascheriamo subito dimmi come si chiama caro Tim Cubeca Assos Luca come si chiama l'enoteca che c'è vicino alla vostra sede e chi è il proprietario magari non bevono e allora sono cazzi loro vediamo se sono veri Tim Cubeca è sobrio così divertiamoci questa è una tappa probabilmente da fughe forse questa è la volta buona di Matthews sì come sempre sì sì probabilmente potrebbe essere o ancora il baffo Magnus Cort in culo a tutti oddio Magnus Magnus oddio basta è una tappa così più o meno da fuga o da volata ristretta questa non può succedere nulla quindi Eking qui teoricamente ancora maglia rossa uccidetevi ragazzi poi tappa dopo allora questa è la tappa più difficile dell'ultima settimana dal mio punto di vista poi perché c'è il lago di Covadonga Covadonga la Covadonga la Covadonga la Covadonga la Covadonga la Covadonga la prima salita di terza categoria molto semplice poi sono tre salite tutte di prima categoria 7,6 km 9.1% 7,6 km 9.1% perché è la solita è la Collada Lomen Coiada Coiada Lomen Coiada Lomen quindi è l'identica salita rifatta credo perché è identica quindi deduco che sia la solita e poi c'è il lago di Covadonga che sono 12,5 km al 7,7% è un po' a gradoni sul finale il pezzo centrale però sono 8 km al 9% secco sì ma hanno risposto hanno risposto Marcello devi subito verificare Dio e Convivo nome del proprietario non gli basta perché grazie tante non è soddisfatto no perché usare usare Google Map per vedere come si chiama con l'olivicina è troppo facile io diritto sempre la Covadonga se sei reale se sei reale ci scusiamo perché qui ci sono account fake effettivamente in tutte le dirette quindi se sei reale buonasera buonasera detto questo detto questo se ci dice il nome del proprietario tutti e quattro veniamo lì a Vera viene con Vio si beve benissimo comunque questa è la tappa dove allora volendo trovare il difetto su questa tappa Mulla dove sta il difetto il difetto è che le due salite centrali che sono diciamo insidiose pericolose comunque l'ultima è dura ragazzi la Covadonga fa paura la Covadonga c'è da star male poi arrivi alla Covadonga e vedi questo lago che arriva al sereno ma prima ti trovi il tempo di Patozzi cioè la Covadonga è un meravigliore di coglione ti cambia la spalla la stregata c'è di tutto c'è talmente tanta distanza dalla penultima all'ultima bravo è quello che dicevo io che nessuno attaccherà mai se la giocano tutti gli ultimi 7-8 km non se ne può più non se ne può più non se ne può più io no guarda veramente è bene che stia zitto questa tappa lì purtroppo è che se avesse avuto una salita un trampolino di lancio prima della Covadonga forse poteva anche essere una tappa incasinata messa in questa maniera secondo me aspettano tutti l'ultima salita e lì qualche succede succede qui magari Echig può anche perdere la maglia però magari se Roglic in questa tappa lì ho capito ma prende 20 minuti se 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 io lo chiedo a tutti e tre se 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 aspettano gli ultimi 5-6 km o 7 della dell'ultima salita prende 5-6-7-8 minuti ne prende al massimo 4-5 ma proprio in valla signor Giovanni si chiama allora è vero magari è uno di Luca hai visto Marcello allora Team Cubea Cassus se sei vero portaci davvero salutiamo la moglie di Giovanni come si chiama è anche qua ormai tutto l'altro generologico ha vinto ormai ti ha risposto il tuo mano vuol dire che il Team Cubea Cassus da Luca ci sta seguendo da Guamo da Guamo sono di Guamo da Guamo qui aspettano l'ultima salita e questo succede il problema qual è è che Lopez per me è quello che alla lunga può far meglio di tutti e tre io Mas per me lui c'ha sempre una giornata Giuseppina si chiama la moglie esatto no basta 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 mi inginocchio guarda è molto meno dello speed cioè tu riconosci le persone è meglio dello speed lo sapete cosa la droga no l'identità digitale a cosa pensi Marcello di Ivar Cosa io guarda non dico più niente a parte il fatto che sono tutto storto sono tutto storto sono rientrato a Milano sono di un cotto domani c'è una spia alle 4.40 allora Frank Deco dice la droga cazzo ne so lo speed allora se l'ultima discesa sembrava speedball in teoria comunque va bene se l'ultima discesa fosse seria si potrebbe pensare ad un attacco tipo di SM Barrein nella tappa vinta da Caruso ma c'è tanta distanza c'è 49 di pianura metti un po' commenti in da face metti un po' commenti in da face la speed è speed per fede un attimo allora non è in da face simula tra qui e Gamonitero ne piglia un bel po' e poi che è il giorno dopo aspetta aspetta rimettila un attimo un attimino in un po' pensare il Gamonitero è la tappa dove ne piglia un bel po' altri a crono da Roglic a crono non dagli altri Eking si vedeva prima Eking è 1.85 per 70 ma no ma gli altri vanno talmente piani che è impossibile non credo che si impegni aspetta ma io poi a parte e invece all'altro e Guillem-Martin ma a me sembra che i due vanno uguali in salita ma non parlo di Roglic Roglic lo metto già prima per il podio questo intendevo io che Roglic vinca a ora non ci sono dubbi per me ascoltami alla mulla in salita Eking equivale a Marten perché ha provato a staccarlo due o tre volte non ci ha riuscito Marten quindi per me vanno uguali non è così però Luca dai dico qualcosa a te che sei un fan di Marten vedendo la no vedendo la conferatura di Eking secondo me se lui arriva zona podio all'ultima Crono Eking non farà male dal mio punto di vista vedendo il corrido rispondi di Marten mi fai rispondere Marten arriverà quinto quinto sesto dai quinto sesto se non va in crisi se non va in crisi ma perché perché per me perché Eking andrà meglio di Marten perché ha la maglia e quello vuol dire Marten appena perdendo i 30 metri per me sentiamo Luca dai sentiamo Marten però ha tipo grazie grazie c'è Arun diretto visto che è l'ultima stagione che fa vai guardate se ci fate entrare ma anche Nizzolo anche Nizzolo che oggi è stato l'ultimo oggi è stato l'ultimo giorno con la maglia di campione d'Europa eh sì e ha fatto un molto dai via fammi sentire questa risposta dai 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 scusa vai no 4-5 minuti in quelle due salite tra la Covadonga e quelle del giorno dopo secondo me li perdono quindi secondo me potrebbero fare top 10 ma non di più almeno a meno che non vadano piano comunque siete tutti fiduciosi come siete tutti fiduciosi come la Movista cioè come la Barè cioè avete tutti questa grandissima fiducia che questi crollano sicuro 100% 10 mili ma questo ci sono due salite che sono due salite tost allora per me per me Moulat te l'ho detto Marten crolla e non arriva al podio Eiching essendo 26 anni non avendo mai fatto classifica addirittura ora Eiching è il favorito su Marten perché c'ha la maglia perché c'ha la maglia la maglia ti dà qualcosa ma allora ma io cosa devo dire che O'Connor teneva al quarto posto Artur De Franza all'ultima crono era pensabile chi c'era dietro che andava anche al crono tra l'altro ma lui non aveva la maglia ho capito ma aveva l'ambizione di fare un quarto posto anche Marten ha l'ambizione di fare il podio scusa non ho capito per me Marten ma non è un corridore da podio anche se ha preso il podio ma è che capito cosa ti voglio dire dice che sta bene perché dovevi prendere 5-6 minuti io faccio 5-6 non le prendo ma io dico la tappa dopo quello che dite voi ci sta questa è la tappa dopo capisco questa sicurezza totale capito come se fossero due principianti andando alla tappa dopo è molto simile ci sono anche altre due tappe in cui se per caso non li avessero presi in queste due tappe di salita ce ne sono altre due di collina in cui qualche alguata non lo possono fare questo è l'ultimo dai quell'altra vabbè ora ci arriviamo tanto si guarda velocemente velocemente allora io intanto faccio un letto mentre voi fate vedere le tappe ecco ci iniziamo aspetta è ritornato il momento ricomincia la stagione è ritornato il momento magico questo ve lo consiglio per la vuelta per il pomeriggio ma questo è molto più interessante della vuelta Marcello sinceramente mamma mia è da un mese che non lo apro secondo me ci sono le nutrire in prova vabbè da niente Tim Kubeca se siete veramente voi ma come se siete ancora non c'è più non è convinto siete veramente voi piazzano che rifalletto è un momento toccante delle nostre dirette ma soprattutto vi rifacciamo nuovamente l'invito allora eccolo qua è fake il profilo ufficiale di youtube è Tim Kubeca Asos Nextash eh attenzione attenzione però è fake quindi attenzione è un profilo fake è strano strano però come facciamo a sapere tutto magari è di Luca quello lì è di Luca di Luca allora più le chioccioli ha vinto la corona al giro perché aveva addosso la maglia rosa e ragazzi è vero la maglia però Eiching non arriva a maglia ragazzi è un top è fuori chioccioli dai ragazzi va bene tutto ma se se ci arriva per la maglia rossa la croce no no ma guarda nessuno ha detto questo era un altro discorso era che che comunque sia lui uno dei due potrebbe rimanere sul podio no secondo me il podio è difficile allora il Gamone Teiro che è la salita la salita finale diciamo che è ancora più difficile della Covadonga che è ancora sì 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 è chiaro nessuno la conosce questa salita soltanto i Movistar che sono andati allora metti le stagio per il Marcello di In The Face metti aspetta 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 che abbiamo la regina delle Asturie perché questo è il monte più difficile delle Asturie dicono Gamone Teiro sono 14,6 km a 9,8% la final ramp sono 5,8 km al 10,8 cos'è la final ramp la rampa finale effettivamente allora la tappa del giorno prima è quella è questa qua qui o lo staccano qui o se no la vuelta qui è finita c'è veramente poca roba oltre la crono è chiaro che qui sono l'unica guarda io spezzo una lancia a favore di questi due davanti Eiching e Martin che su salite del genere grossi grossi distacchi non è facile fare cioè sullo Zoncolan è difficile da 3-4 minuti a uno difficile arrivano tutti a 20-30 minuti è tutta un'illusione c'è Germanino che ha dato un altro apporto alla causa ah è vero Asos Lucca e Under-23 vedi 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 attenzione scopriamo piano piano grandi comunque grandi è il team però posso dire una cosa su questa su questa salita finale che costano su tanti movi sto rison bianco sto rison bianco Marcello no perché mi mette anche no mai eh giustamente in dafe si dice rison bianco ma sono arrivato alle 9.40 oggi ho fatto 21 ma prima o poi Marcello lo farà ma sì ma adesso non mi rompete le palle sì lo prometto adesso non mi rompete le palle anzi andate a fare il duro tutti Alessandro Baccani giustamente dice vi ricordo la Filippa a tutti il 2019 io penso parli della Crono dove alla Filippa no e poi in salita poi crollò in salita nell'ultima salita cioè è fisiologico sì vabbè però la Filippa ha concluso la Filippa non è non è non è D.A. Vaucler ve l'ho ricordato anche Vaucler fino all'ultima due tappe resse in maia gialla e Chiappucci no e Chiappucci nel 90 non se ne ricorda più nessuno Chiappucci però poi alla lunga aveva delle doti da scalatore cosa che Vaucler ascolta ma a Marten non era scalatore allora ragazzi voi nel 90 avevate tre anni quattro anni per fortuna vostra il signorino Chiappucci nel 90 lo conoscevano in pochi era uno poco conosciuto è vero lui si è ritrovato in questa fuga Futuroscope che era la seconda tappa mi sembra del Tour de France perché c'era il prologo all'inizio poi la seconda tappa Futuroscope aveva preso aveva preso tipo 10-11 minuti poi c'è stata una scelta scriteriata sua perché è andato su Pasec che era il gregario di Lehmond e non su Lehmond e lì praticamente in due tappe ha dilapidato tutto cioè ragazzi questo è un altro discorso lo poteva vincere se correva in maniera più intelligente se correva su Lehmond se avesse corso su Lehmond avrebbe potuto forse vincere il Tour de France l'NB è fatto da Greg Lehmond infatti allora andando avanti poi e anche Mario Draghi nel frattempo sì meno male anche lui meno male Ria Ria ma viene anche Zan certo viene anche quello del DDL Zan Marten se fa podio scatena una guerra contro Macron va bene allora questa è l'ultima tappa paradossalmente io non credo velocissimi questa è fuga al 100% perché c'è troppe salite sull'inizio questo è proprio un telo rosso che è proprio steso attaccate c'è scritto questo è un altro giorno in cui si farà qualcos'altro Benelux ora ne parliamo del Benelux ne parliamo ora quindi questa è l'ultima tappa io penso da fuga e poi c'è l'ultima l'ultima tappa in questa c'è l'imboscato per quei due ecco in questa se uno dei due Marten e Hacking rimangano lì davanti probabilmente questa è l'ultimissima occasione però se te vedi le salite e le pendenze non c'è tanta roba su cui attaccare anche l'ultima salita sono nove chilometri al 4% è vero cioè i primi due chilometri al 9% sono tutte salite non difficilissime c'è poca pianura quindi qui qui è una classe in un'etapa del genere potrebbe contare più la squadra che loro due non hanno avere qualcuno in fuga che poi ti aspetta mentre attacca e ti porta avanti sicuramente valerio dice una bella cosa imboscate però anche per Roglic vorrebbe vedere Roglic non ha la squadra non ha la squadra non scherziamo per me la Movistar qui se vuole inventarsi qualcosa è l'unica squadra o la Bahrain vedendo i nomi che ha possono provare a fare qualcosa questa non è una tappa banale ricordatevi Contador era maestro in queste tappe Contador ci ha ribartato diverse verte in queste tappe Contador è un super campione ragazzi stiamo parlando di Contador nel senso che è fattibile volendo se uno ci prova vi ricordate come ha vinto Aurum con chi può fare quella roba vi ricordate che squadra Bevaru Astana era Cialalanta vi ricordate chi c'era in quella squadra c'era fortissima quella squadra a parte qualcuno che è stato squelicato per Traino che era Nibali però aveva una squadra fortissima era una Stana fortissima qui la ribalta sì sì avrà quanto ha due ore più o meno è molto simile a quella della Vuelta a Catalogna dove la Vuelta ha pagato è vero dove c'era in maglia gialla la tappa lì e ragazzi qui potrebbe succedere il nulla totale oppure un disastro io vedendo l'andazzo appunto sul nulla totale e questa è la crono finale una crono finale nulla nulla è depresso crono finale 34 km difficile ci sono due salite anche l'arrivo è in in ascesa quindi non è una cronometro per chi per chi ha forza per chi prega è una cronometro qui è Roglic prende due minuti su tutti e via infatti Roglic secondo me è Roglic l'unico rischio che può avere Roglic è di non arrivare qui in maglia rossa l'unico rischio per Roglic la prende qui allora e poi la prende qui chiaramente e poi la brucia si sfoglia la brucia sul promontorio quindi questa è stata secondo noi la diciamo la la disamina della 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 terza settimana della Vuelta poi magari sotto sotto nei commenti per chi guarderà la diretta domani o non lo scrivete ora in chat sotto nei commenti scrivete voi cosa cazzo potrà succedere nella terza settimana della Vuelta o dove si può veramente creare un po' di casino se come ha detto Luca sulla penultima tappa si può ribaltare qualcosa il problema della Movistar è che Lopez sia che Lopez che Mas corrono per il podio e non per vincere sì ma aspetta fermo farebbero bene perché chiaramente è difficile che vincano con il gioco ma il problema è che secondo me non corrono neanche per il podio non corrono per niente cioè aspettano che arrivi il risultato dal cielo eh corrono e basta e poi aspettano che il risultato arrivi dal cielo Piazzano vogliamo un filo pubblico su Instagram ti chiedono no 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 non mi sono coglioni ma no vince la prima finale urla vamos alla playa allora con sobrero al Benelux allora facciamo così andiamo sulla start list del Benelux tour e iniziamo a sparare un po' di noi perché ragazzi c'è da far mercato eh perché io sono un po' indeciso anche io in campionato sono messo male perché queste scelte qui ora tanto tutti sa pochi cambi parliamoci chiaro per chi fa la lega chiaramente le leghe bisogna capire un attimino se siete a asta o non a nasta noi siamo tranquilli perché si fa i cambi come ci pare siamo sereni quindi voi già avete la campionata tra l'altro Luca è passato in testa troppo e poco siamo lì è una lotta momentaneamente allora perché i cambi limitati sicuramente sarà facile ma in campionato adesso è il momento decisivo perché bisogna calcolare al centesimo i corridori che faranno più gare e più punti per sprecare i meno cambi possibili allora il percorso poi magari lo vediamo dopo ci sono due volate sicure secondo me una incerta una crono e due tappe molto difficili no ci manca qualcosa come due volate sicure le volate sarebbero quattro in teoria vuoi vedere prima il percorso o si parla prima della start scusate ma quanto dura le giro del percorso quanto dura scusate una crono e due tappe un po' più complicate sette tappe sono allora aspetta aspetta quattro volate di cui due un po' più difficile no sono meno le volate sono meno le volate una crono e due tappe difficili o meno le volate aspetta parliamo prima delle tappe dai così aiutiamo la gente a capire è sbagliato facciamo ordine allora facciamo ordine parliamo prima delle tappe e poi si guarda la start list la prima volata aspetta prima tappa mettiamola più grande prima tappa volata direi che questa è volata ok e qui non c'è storia qui sono pochi dubbi seconda cronometro cronometro di 11 km ok quindi questa è una bella domanda dopo cerchiamo di rispondere perché non sarà semplice comunque è probabile bene seconda seconda cronometro ok poi terza tecnicamente è una volata però ricordiamoci che qui ci sono strade strette curve ogni 3x2 e non è così scontato che queste tappe arrivano in volata ok comunque teoricamente apparentemente volata chi è il velocista della quick step Ogg Alvaro Ogg Alvaro Ogg che ha battuto comunque recentemente Tim Merlier se non sbaglio va bene Merlier ha già esaurito il suo bonus poi siamo alla quarta tappa tecnicamente volata ok questa più volata di quella di prima tre volate però allora storicamente andatela a guardare andatela a guardare poi ditemi se non sbaglio storicamente il Benelux o il Big Bang Tour come si chiamava non è scontata la volata ok non sono scontate eh ma ne arrivano diverse eh cioè sì però c'è gente come Immo Moric sono tutte volate che partano le fagianate a due o tre chilometri all'arrivo perché sfruttano le stradine tutte strette per prendere quei cinque secondi sul gruppo e inculare i velocisti questa è la velocisti puri c'è solo oggi no ce n'è c'è Grunewagen Iwan ce n'è tanti Iwan lascialo perdere lascialo perdere la spesa di speranza anche con Iwan però c'è no c'è Gaviria Viviani ce n'è la Porta ce n'è tanti i velocisti eh e ora si guarda perché teoricamente essendo ce n'è tanti è probabile che ci sono tre arrivi in volata ok poi qui arriva la quinta tappa che non sarà sicuramente volata perché tutti questi murettini in quella questa arriva il cassio gruppettino di 4-5 corridori questa è la tappa questa è la tappa da Asgren Evenepul Stuyven per capirsi scusate Evenepul quant'età ne vince 12 in questo giro del è probabile è probabile no 12 poi questa questa non è sicuramente da volata perché è un no con rispetto no questa no un piccolo una piccola frecciavallone un piccolo fiandre chiamano le cazzo quindi la vince Evenepul questa la vince Evenepul quindi una piccola Amstel non lo so insomma tutti questi strappettini non è davvero non è da volata ragazzi tappa numero 6 e l'ultima sicuramente non è da volata questa è anche la decisiva ragazzi decisiva la solita di sempre però questa è stata vinta anche da Matthews in passato per farvi capire quella che vise Van Der Poel l'anno scorso sì però se la maglia ce l'ha qualcuno che è una mezza ruota veloce anche Pedersen in questo giro si è piazzato né 10 né 5 però per Pedersen questo è un po' duretta è un po' duretta era il Pedersen che andava meglio nelle nelle strappi e meno nelle volate esatto è un altro tipo di Pedersen ora se ne parla di Evenepul se ne parla ora quindi questo è ci sono ripetiamo tre tappe finali sicuramente non volate tre tappe iniziali probabile volata e una io la terza ultima non lo so lascerei una porta aperta un po' più per un gruppo un po' più questa qua sì un po' più numeroso dipende poi dipende 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 da come gestiscano la gara i velocisti ma quei triangoli sono tutti i gran premi della montagna no allora fermi ragazzi i 230 persone ci sono solo maglia punti e maglia generale montagna e giovani non ci sono qui c'è il chilometro d'oro golden kilometer golden kilometer che li ha buoni li ha buoni in secondi sì però non è valevole come sprint sprint però lo faranno lo faranno sì 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 loro prendono i secondi da buono quello sì quindi e qui conta perché chi vince bene il lux tour vincerà per 10 secondi 20 secondi quindi contano anche i golden sprint ma invece quelli per le nostre fu è una canzone di Tom DeLonge che ci ha venduto che si chiama golden shower in the golden state nell'album che ha rilasciato la solista sì va bene i traguardi volanti non so dai non dobbiamo no i traguardi volanti ma loro sì ci sono gli sprint vedi sopra c'è sprint però il chilometro ti dà ti dà i secondi quindi in tutte le tappe come funzionano per il nostro per le mani in gioco non sono sprint gli sprint volanti sono quelli con la S il golden è come quando c'era il giro o la bonificazione o al Tour de France la bonificazione non viene dato però è bene è bene vediamo fa molto pista allora andiamo a vedere la start list e ora andiamo a cercare di capire chi cazzarola consigliare alla gente bene pure sicuramente bene pure sarà uno però ragazzi non costa poco e non è facile comprarlo italiani diciamo italiani e core brelle sì però aspetta un attimo scusa un secondo adesso mi devo scostare mi dici prima di tutto chi è fatta la Wonti a Wonti Gobert prima di andare alle altre squadre I'm in Wonti Gobert I'm in De Geert e Ivan Poppel Pasqualone Van De Horn De Geert è andato in fuga Pasqualone eh Van Poppel Van Poppel boy Van Poppel Danny e Van Speybrook c'è Danny Van Poppel e Tappo per le fughe e De Geert e De Geert che comunque può tenere vabbè era andato anche in fuga l'altro giorno De Geert sì che hanno sbagliato strada e si è ritrovato lui bene sì allora andiamo andiamo a vedere un attimino allora per la per la Alpecin cioè Merliel per le volate credo che non si ritirerà essendo un giro da una settimana dovrebbe finire in teoria no perché io vado forse eh eh grande uomo Pasqualone ce l'ho io nella nostra Lega come al mare Lorenzo mi sta recuperando puttana ma sto facendo una vuelta di merda mi sta recuperando la perdo perdo il campionato eh allora Merliel eh e poi chi c'è interessante Gianni Vermersche forse vorrebbe essere interessante Urca interessantissimo c'è Sbaragli no 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 De Bont per le fuche De Bont e Zolle scusate ma Sbaragli cosa fa eh ma Sbaragli fa solo la pubblicità non so perché vuole I want to keep my hair no lui lo dice in italiano Montecatina 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 perché voglio perché voglio perché ci tengo i miei capelli eh ci tengo sì ma scusa ma Cristian che gare fa eh non lo so Marcello ora stiamo parlando di non rompere il cazzo con Sbaragli non lo so che gare fa se no se si finisce di volare due si finisce allora Tim Merlier per le volate De Bont il Gioldi per Mesh e per Mesh una probabilità specifica poi e bene e bene Asgren e oggi sono quelli interessanti per la De Croning e bene pure Asgren la domanda del secolo no non c'è una domanda queste gare tutti in queste gare non c'è un bianco bravo no 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 la cosa interessante la cosa interessante ora vi insegno come si gioca a Fanta Cycling è che poi si trova anche nell'app chiaramente perché ci si può fare la scrematura di tutti i corridori in base alle gare che faranno noi andiamo su Asgren e vediamo che Asgren fa il Benelux fa lo vediamo da qua sì fa il Benelux l'Europeo poi fa il campionato del mondo a cronometro a strada sulla strada e la Paris-Giroubaix quindi teoricamente Asgren è uno da comprare perché da ora in poi ti farà 5-6 gare ricordiamo che ne manca 8 alla fine quindi ti farà diverse gare quindi Asgren è uno che potenzialmente è da comprare se uno c'è soldi per farlo e lo stesso è Venepul e Venepul fa il Benelux l'Europeo poi fa anche l'Europeo a cronometro lui poi fa il campionato del mondo e in Lombardia gli ci mette un po' no 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 il mondiale non lo fa perché puntano su un uomo che è banale e se lui ha due e lui e ci sono altri ha detto che ci sono altri uomini più adatti a fare il regalo ma il mondiale che fa Venepul è la crona vedrai ragazzi può darsi la crona qui qui c'è scritto Rod Reyes ma secondo me fa la crona è bene fa la crona ovviamente non farà la corsa in linea perché puntano su uno che è Banairt forse sbagliano no? che dite voi ragazzi? io l'avrei portato tutti e due no? ma forse sì quanti sono e i mondiali otto nove alcuni nove otto dipende da dipende da lasciare a casa il regno con nove te puoi permettere due capitani non è come come l'olimpiadi dove hai cinque forzati e di questi devono fare anche la crona per forza io non credo che Venepul non lo portino al mondiale non lo portano allora ascolta ascolta c'è stato questo problema perché il Beggio ha sempre portato le squadre con dieci capitani allora stavolta l'allenatore del Beggio ha detto si punta su questo uno è Van Aert il resto fanno i gregari e lui ha detto quindi probabilmente io non sono un gregaro ecco bravo io non sono un gregaro mi sembra un'assurdità perché due punti perché sta andando forte ragazzi sta andando forte e due punte non mi sembra un'esagerazione no? cioè poi magari tornando al bene anche perché in un mondiale così devi avere almeno due carte per ragazzi io vi devo salutare vi devo salutare vai ciao Marcello ciao 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 Marcello allora tornando al Benelux vi ho fatto vedere un attimino come impostare le ultime gare Asgren e Benepul in teoria sono due ottimi corridori da prendere oggi per le volate oggi ha vinto recentemente ha vinto una gara in Beggio battendo appunto Team Merlier però io non ve lo consiglio poi magari farà bene c'è Morcove ragazzi qua quindi potrebbe fare bene costa poco potrebbe fare bene Morcove costa poco costa poco perché oggi rispetto a Merlier ve lo dico non mi ricordo il prezzo di oggi però oggi sicuramente è uno dei velocisti che ha un costo basso 13 oggi costa 13 e Merlier 14 mi sembra giusto Merlier 14 o Merlier oggi o tutti e due come velocisti di costo basso e alta rendita per questo Benelux potrebbero starci poi l'8 Team Balance punta alla classifica Team Balance è eterno permesso ma l'ha sempre fatto in questa gara quindi è probato mi gara di più Van Der Sander guarda se dovessi scegliere qualcuno nella l'8 fra tutti fra Iwan poi c'è il ritorno di Gilbert che è da un po' che non si vedeva debiust per una ruota veloce Caleb Iwan che cazzo farà qui no Iwan fa bene dai Iwan fa bene andiamo contro nulla allora costa eh costa tanto Iwan essendo il finale di stagione non so quanti si rovuteranno io chiuso con Iwan no ma come programma è inutile comprarlo si è meglio era l'ex Big Bang Tour comunque dicono che fa la formazione perché fra un po' ma non si fa no si dà si dà si dà dei nomi si darà tre nomi a testa senza farla comunque tre nomi a testa si danno poi la G2C Greg Van Avermaet qualcosa farà e Oliver Nasen vai passiamo avanti Astana Astana Fulsang cosa farà qui Fulsang non so passiamo avanti vai passiamo avanti con l'altra squadra qui c'è Sobrero farà la risposta è sì perché Sobrero si sobrero farà come il Polonia bravo no ma non è passiamo avanti allora colbrelli qui allora il problema qui di colbrelli è uno solo no colbrelli che problema si ho capito colbrelli però le volate per me le fa Bauhaus si quelle piatte però ci sono tre tappe però colbrelli secondo me non ha la capacità di staccare Asgren e Venepul Valens per me poi non lo so però non è malaccio dai se uno ce l'ha lo deve rischierare ci sono due tappe per colbrelli quelle due che dicevamo potrebbe anche fare un po' di classificazione Sonny ma aspetta perché c'è Moric per me la classifica faranno due ma che te ne frega qui nessuno fa gare a nessuno queste sono gare allo sbaraglio con il brelli in 11 km di crono come sta messo 30 secondi 30-40 secondi dai bene Pulle e Asgren perditele una perde due tre secondi al chilometro dai ma dipende tutto da quella perché essendo la seconda tappa Mori ci perde meno per me faranno anche qualche strategia in base a quella sì 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 Mori se viene fuori bene magari può anche puntare la classifica c'è anche Jonathan che perde poi Peter Sagan cosa può fare Peter Sagan qui andiamo avanti vai passa la squadra successiva Peter Sagan non fa niente quindi ve lo sconsigliamo Peter Sagan no cioè niente in relazione al suo pezzo eh costa troppo dai qualcosa farà però costa veramente tanto qualche top 5 o magari anche qualche top 3 la può fare però io vi dico secondo me ci stupisce Sagan poi non lo so però per me ci stupisce perché si piazzerà sia nelle volate sia nelle tappe dure quindi attenzione magari arriva nella top 10 generale però farà tanti punti perché si piazza secondo me in quasi tutte le tappe poi non lo so costa tanto è vero chiaramente però è più indicato visto le altre gare che ci sono forse è un po' indicato cioè ne farà abbastanza se ne sbaglio Sagan fa l'europeo e il campionato del mondo e la Parigi-Roubaix ma Sagan se la cava sempre no non è che fa mai male però costa tanto vabbè se ce l'avete però comprarlo apposta ha tutti i soldi poi Cofidis Laporte Viviani per le volate Laporte io penso per una pseudo classifica Laporte però c'è anche Saino Laporte non lo so io non lo consiglierei più di tanto lo so che è però Laporte va bene anche Crono sì sì andiamo avanti Sdegnu arrivederci però Laporte non lo so sì può fare qualcosa ma forse in una di quelle tre tappe finali ci lascia potrebbe fare qualcosa sì 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 no cioè secondo me in una di quelle tre perde un sacco di tempo però nelle altre qualcosa può fare compresa la cronometro non so che condizione abbia comunque non ho ancora capito perché lui punta comunque anche lui alla Roubaix parliamoci chiara allora poi c'è l'EF l'EF ci presenta con uomini interessanti per me per le fughe Vandenberg e per una pseudo classifica potrebbe essere Bissiger perché c'è la Crono come seconda tappa potrebbe essere lì davanti potrebbe anche vincere dalla Crono mai dire mai e e magari con la maglia di leader no potrebbe fare una sorta di classifica Bissiger che dite non penso però anche lui secondo me in una delle ultime tre tappe ci lascia per il terreno però ci può provare poi si stacca Grupa Ma Kung 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 punta la Crono l'ha già detto e poi cosa avviene viene quindi non lo so quanto ne valga la pena batti l'Alter? no Benjamin Thomas non sono i suoi sferi no semmai le regolate le fa Jake Stewart esatto che costa poco quindi potrebbe essere un velocissimo e anche in quelle mosse anche in quelle mosse Stewart non va non dovrebbe andare male infatti forse è meglio poi Garen Thomas al Benelux che cavolo potrà fare? niente cadere stiamo un zitti dai poveraggia allora Garen Thomas ok non lo consigliamo c'è andiamo avanti vedo Gianni Moscon però potrebbe far qualcosa andiamo avanti alla squadra successiva perché scusate su chi punta l'Italia al mondiale andiamo andiamo avanti all'argomento successivo dai ormai col brally col brally boy van pop è il nome perfetto ma può non stare non può essere davvero un ciclista andiamo avanti dai salta salta la Ines dai ok però Moscon Moscon come è sempre come è sempre vincerà si poi si la mia domanda riferita alla nazionale era se si punta su Moscon per il mondiale questi per cui sono simili col brally di Trentin noi si punta su Trentin e praticamente perde in volare allora poi Ahmed e Ghent per per una pseudo classifica secondo me ma più che altro fughe Danny van pop per fughe Tau van de Korn fughe Pasqual van de Korn no 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 Danny van pop per farle volate per averle un po' più impegnate sì è vero è vero ma io ragazzi per me Danny van pop è sempre una delusione per me ma in queste corse qui però a volte viene fuori si risveglia guarda aspetta un attimo voglio capire Danny van pop per cosa ha fatto recentemente no 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 ti sbaglio ha vinto su Bonifazio vinto e in queste corse qui viene fuori terzo trovo ha fatto il terzo in quella dove ha vinto oggi secondo me se non ho letto male prima sì 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 esatto bravo bravo man pop vai allora poi la Israel si presenta con una squadra di raccattati no vabbè Bursi Smith è qualcosa qualcosa non so cosa ma qualcosa attenzione attenzione a Renard sì a Polonia a Polonia ha fatto al Polonia si è scatenato ascolta di due o tre Ave Maria vai potrebbe no no tu segni tu segni costa due per una tappa sì per una tappa non di più però segna segna questo è il consiglio questo è il consiglio Renard questo è interessante la Jumbo Bisma è interessante Tom Dumoulin Gronewegen Koji o Koi come si chiama Timorosen Teunisse Vanemden e Affini io dico la mia poi magari mi sbaglio qui c'è tanti Teunisse per la classifica Gronewegen per le molasse e Dumoulin che cazzarola ci fa qui Paragamba eh bravo Crono e Gamba quindi Teunisse per la classifica dici sì te la senti sì Teunisse è tanto che fa qualcosa no 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 sta correndo in quelle corse Danimarca Norvegia e non sta facendo male è adatto è adatto a questo tipo 25 secondi da Ethan Hater è arrivato è adatto a questo tipo di percorso comunque cioè nel senso è terzo dietro dietro i vene Dumoulin anche Pedersi però ha fatto classifica qui a Giro di Danimarca era molto più facile era molto più facile sì quindi Teunisse e lo consigli effettivamente non è andato male ultimamente potrebbe essere una buona arma poi Movistar in queste gare la Movistar Cortina Cortina era perfetto per lui ha fatto solo di disastri solo ho letto un posto dove diceva non sono andato bene ma non importa ho altri obiettivi ho altri obiettivi la Rubè è pure lui chissà chissà quali saranno questi obiettivi mentre che c'ho da bannar accidente arcane di Nini madonna chi è hanno mandato messaggi webcam chat porno ma vaffanculo tocca bannarlo vabbè pubblicità anche questo dovrebbe essere nascosto sto deficiente pornografia dovrebbe essere nascosto ragazzi andiamo avanti andiamo avanti bike exchange nessuno andiamo avanti DSM il mitico il mitico cosa farà per un altro minus io quasi quasi lo conto sai perché perché sono perché sono curioso capito io sto cancellando messaggi pornografia e c'è solo in Craig Anderson quindi vi dico sì esatto sono curioso sono talmente curioso che lo comprerei guarda perché potresti essere l'unico comprarlo e fare il botto io non lo so sono talmente curioso su questo Craig Andez che è talmente un nuovo mistero però c'è anche Tisci c'è anche Tisci c'è anche Tisci no Benò non è più un corridore praticamente io ho letto che il Craig Andez punterà la classifica comunque perché chiara Crono comunque di 10 km farà bene perché ha fatto bene anche recentemente ha vinto e poi il mitico Ball farà le volate che non riuscirà a fare e poi rimanere invischiato il Ball proverà a fare le volate che probabilmente non riuscirà a fare però ci prova capito continua a provarci poi abbiamo la mitica team Chewbacca vai andiamo avanti con il grande grande Campenerts no no Campenerts farà le fughe le fughe le fughe esatto poi Trek con Pellets e Stuyven e Stuyven potrebbe essere interessante non si capisce chi fa c'è le velle volate tra Moschetti e Pedersen Moschetti no neanche quella piatta ma non lo so se non è Pedersen ora non lo vedo anche non è in una cattiva forma cioè non è messo male io non lo vedo male vabbè poi ti dici Moschetti no magari forse la prima che è totalmente piatta se l'hanno portato secondo me una gliela fanno fare poi cosa fa ce ne sono tanti velocisti quindi difficile che vada poi ragazzi porca troia mettete mi piace a questo video 72 mi piace siamo in 220 dio sa mettete mi piace a questo video non si va avanti mettete mi piace se no non si va avanti dai mettete mi piace se no non si va avanti perlomeno 150 mi piace bisogna arrivare a 150 se no non si va avanti voglio finire questa cosa non si va avanti non si va avanti 150 mi piace torniamo alla poeta 83 83 dai che ci si fa dai più di 100 mi piace se no non si va c'è anche chess ball c'è anche chess ball dice sputnik che farà la volata in surplus 95 dai dai che si supera 100 e si continua vedi che funzionano le minacce di cratini eh bisogna minacciare bellissimo la volata in surplus è bellissima chi le fa la volata in surplus no dice sputnik c'è anche chess ball chess ball che farà la volata in surplus sì senza stassi mai su pedagli non riesce è come sai i velocisti che non riescono più a sassi sui pedagli o gli scalatori che non vanno in salita eh sì gli scalatori che non vanno in salita i velocisti che non fanno la volata io la cortina non ve lo consiglio ora vi dico le mie qua hanno della exchange nessuno qui cregando il sessore per favore no anche se purtroppo come no io lo compro sono sempre più cos'ha fatto recentemente è arrivato sesto in generale al giro di Danimarca dove Pedersen è arrivato secondo io sono sempre più convinto su Craig io vado da una parte del nulla chess ball per le morate Andersen e Tisbeno cosa farà qui? niente Tisbeno torna praticamente dall'Olimpia il nulla ha dichiarato Tisbeno non più corridore non è vero non è vero non è vero nego questa cosa poi Team Quebec per me potrebbe essere Google per le volate chi? ma che Google ma quando mai ha fatto le volate no scusate no Fede Google per le fughe mi sono sbagliato Google per le fughe e volevo dire o Barresbook o Washfeed Walshide o come cazzo si dice vai 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 Walshide per le volate però Google volevo dire per le fughe infatti non so perché mi è uscito a volare poi la Trek è la squadra più interessante secondo me qui perché c'è tanti discorsi da fare la Steuben io ho fatto la stronzata di non comprarlo di non comprarlo prima della Bretagna dove è comunque arrivato 7 però sono quei 100 passapunti che non ho preso tutto fa perché Steuben farà tante gare anche lui ora la domanda è vai avanti ma cosa c'entra scusa ma cosa mi stai parlando Steuben e Peders le volate le fa Peders e Steuben cercherà un po' di classifica qualche qualche volata un po' più mossa lui fa qualche tappa un po' più difficile il campionato del mondo e la Parigi-Roubaix mentre Pedersen fa il Benelux il campionato del mondo e la Parigi-Roubaix quindi praticamente fanno le solite gare ora in prospettiva meglio Steuben perché meglio Steuben Pedersen in passato ora è vero che è altalenante al gruppo di prestazioni a parte non sta andando male in generale perché comunque qualcosa ha vinto ultimamente Pedersen non è in una brutta condizione ma in passato al Big Bang Tour è arrivato quinto e ha vinto una tappa nel 2020 nel 2019 non è andato bene non è andato bene a parte che era abbastanza giovane chiaramente e qui si è ritirato quindi l'unico dato è il 2020 che non è andato affatto male e poi vinse anche la Gande-Beverg tra le altre cose secondo me la casifica non ha neanche sbaglio Pedersen ma io non lo so non ci giurerei lo sai non lo so mentre se andiamo su Steuben Steuben al Big Bang Tour cosa ha fatto in passato? Big Bang Tour nel 2020 non l'ha fatto nel 2019 non l'ha fatto il Muller si è dissociato nel 2018 è arrivato decimo con una vittoria di tappa nel 2017 è arrivato terzo è vero potrebbe anche io lo vedo attualmente più predisposto di Pedersen nelle tappe mosse magari Pedersen fa le volate anzi senza magari Pedersen fa le volate a meno che non ne lasciano una Moschetti però secondo me nelle tappe collinari vedo meglio attualmente che minaccia ha fatto Giorgio che minaccia ha fatto chiamano il Kodakons che minaccia ha fatto scusa dei like secondo me ah dei like vabbè allora riscese davanti Gaviria meglio ragazzi in chat cosa dite voi Pedersen o Steuben se uno dovesse fare la scelta perché poi c'è anche Edward Teuns c'è anche Moschetti per le volate e anche Edward Teuns non è fermissimo in volata quindi non è una scelta facile voi chi prendereste tra Steuben e Pedersen punto di domanda vediamo se rispondono in chat detto questo UAE team Emirates UAE abbiamo Gaviria per le volate McNulty mi rifiuto perché cosa può fare qui McNulty non fa niente forse la Crono e poi cercherà di Steuben tra Steuben e Pedersen prendo McNulty no tra Pedersen e Steuben dico la porta ancora su Steuben Pedersen non ci posso chiedere in vista del mondiale Steuben poi a Gregario 21 a 3 Van Aert meglio Pedersen dice vero Steuben se va a fare il mondiale comunque fa il Gregario a Van Aert e quindi meglio esatto meglio nessuno dei due guarda se uno proprio per il mondiale infatti per il mondiale proprio nessuno dei due assolutamente è duro il mondiale è duro però Van Aert l'ha detto che l'altro giorno ha vinto per la tappa diceva che il mondiale sarà più semplice non so diceva lui perché non c'è degli strappi micidiali sono tanti sali e scendi continui però non è l'importante è il meteo perché se piove fa un disastro parole sue alla Gaviria per le volate McNulty proverà a vincere la Crono però non vedo sendo me il più favorito Bjerg per la Crono Bjerg sì sì e Irshy ha fatto classifica Irshy ha fatto classifica in passato però ragazzi Irshy ha fatto un decimo posto e un quinto posto alla alla classica di Bruxelles ora sennò davvero un minimo sarà leggero miglioramento leggero poi c'è attenzione a Timothy Dupont Fisher Black Fisher Black Moulin Regario no non lo conosco veramente come non lo conosco era quello era quello alla Under 23 della Jumbo che poi gli erano fregato qui della UE maggiore ho sentito ma non so che corridore sia e di sicuro eh lo scopriamo no allora poi Timothy Dupont è l'unico che mi sento di consigliare di queste ultime due squadre anche se la Bingol e la Sport Blunder si azzeccate un paio di corridori questi vanno in fuga allora Sport Blunder io non ne conosco nessuno di quell'atta c'è Timothy Dupont per le volate per le volate o a Nurkowski o Dupont comunque è più resistente però considerando che poi vanno cioè i cambi ormai sono pochi secondo me no se uno ce l'hai squadra se ce l'hai magari se ce l'hai lo metti lo butti dentro Dupont si certo se c'hai l'Ivins magari no c'è Menten che è un giovane potrebbe far benino robepe le fughe cioè roba così comunque Dupont se uno ce l'hai magari lo butta così a caso come nono no qualcuno in fuga ci andranno fissi soliti sempre soliti saranno sempre 3 o 4 5 che ci andranno sempre tutte e 7 giorni no dici saranno sempre soliti 5 o 6 di quelle squadre lì che andranno in fuga tutti i giorni 7 volte e alla fine un po' di punti li porteranno a casa allora facciamo così si fa una cosa molto molto artigianale adesso tre nomi le scriviamo le scriviamo qua parte il mulla ah mi date il vantaggio mi date sono il mulla mi date il vantaggio come sai parti a parte a parte cinque minuti prima perché sono inferiore se mi date il vantaggio è facile il corrido numero uno è il vene per il vincitore agile agile in agilità poi che so ci metto velocista grovegan poi ci metto uno ci metto uno che ne so per le un jolly una specie di jolly fughe eccetera eccetera de bont de bont della nome jolly dell'alpe nome jolly così buttato lì tosh van der sande della lotte quindi jolly mulla è detto van der sande ok quindi questi sono i nomi del mulla lucapedia asgren moric vermerch quindi asgren moric cazzo non avete lasciato nessuno pezzi di merda scusa che devo dire scusa io jolly alexi renardo ancora questo renardo continui eh no è visto così rimane sediato ci sta uomo di poca fiducia jolly renardo che si rimane sediato israel la israel si è uno un po' un po' imprevedibile diciamo mi piacciono gli imprevedibili ma avete già rubato ve le volevo scegliere io ovviamente lo sapevo allora cazzecchia allora una volta che ti ho rubato vine hai preso store cazzecchia è la tua fortuna che qualcuno ti rubi non numero uno io dico team merlier per le volate poi numero due vediamo un po' vediamo un po' io dico ellens secchia non vengo più non vengo più e ora me la gioco ora me la gioco ora me la gioco eh eh questa è dura porca puttana guarda guarda per chiedere ma è stupito te guarda te unisse te unisse ah qui c'è questo tra copiato però eh sì perché lui mi copia mia allora io mi copio sua jolly te unisse vabbè vabbè no scusi jolly e io jolly vi tiro fuori una perla ora vai eccoci vi tiro fuori una perla non è che l'avevo visto 20 minuti di applausi e si chiude dai sei un coraggioso sei veramente un temerario perché? sfidi le leggi della fisica proprio cosa stai dicendo? no niente era erotico allora questi sono sono i nostri nomi eh li ingrandiamo bene allora no non ho ingrandito un cazzo è diminuito è diminuito infatti allora il mullah ha scelto e bene Pulgronewegen De Bont dell'Alpescine e Van der Sand dell'IF poi andiamo avanti jolly di fede e benjamino ci stava invece dei Salzburg dice Iwan Bjerg Van der Horn e Thomas de Ghent però Thomas de Ghent non c'è non mi piace c'è Thomas de Ghent no c'è Jaime de Ghent no ah si c'è Thomas de Ghent non mi piace ah è vero c'è Thomas de Ghent forse Van der Ho c'è ma torna da bo Bjerg per la colonna però sulle cadute di Thomas si può scommettere eh sono date a poco a poco ancora ancora porca puttana ancora tu ho bloccato Dio santo ancora no ragazzi non ci voglio credere è più forte è più forte di te ti batte su tutto ma guarda questo mongoloide che mette messaggi di buono ancora ancora si questa parola vabbè ragazzi no ragazzi manda messaggi pornonciati ma perché maledetto lui maledetto lui maledetto oppure l'ho bannato prima hai bannato male cazzo ragazzi aspettate un attimo è risuscitato nascondi utenti dal cazzo più che nascondi i messaggi di questi utenti verranno nascosti via via non ti ciammala già hai fatto hai detto una cosa scorretta ho capito però questo rompe le coglioni webcam hot girl ma vai io vai se 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 floddano la chat vuol dire che siamo andati in port non so cosa voglia dire non so cosa voglia dire floddare la chat impestano impestano siamo importanti ok meno male siamo importanti allora ho 12 ora iniziando le domande ho 12 cambi ed è buono ti dico la verità 12 cambi ora è buono come nono potrei portare Koji che dite do via cattaneo per stuart ma Koji me lo vedo male meglio stuart scusa cattaneo quanto costa cattaneo costa 10 una roba vabbè potresti prendere anche qualcuno un po' cattaneo 11 se ce la fai prendi oggi a 13 scusa se ce la fai oggi è un po' più sicuro però stuart non è male o perché De Bont allora De Bont ce la fai c'è niente stuart pensavo al velocista Dupont scusami Dupont no Dupont a 7 Dupont a 7 stuart costa 3 ah è vero stuart costa ancora 3 però è stuart un po' poliedrico ma non è specializzato in praticamente no ma guarda comunque andava bene quest'anno all'inizio fece secondo all'omloop no poi aveva quella caduta che ha usato la buona eh maledetto da lì è stata dura quanti cambi dopo il bene secondo me dopo il bene Lux 6 6-7 ma io non lo so perché non lo sto facendo 6-7 io vi dico io sono tredicesimo ho perso due posizioni per colpa della Bretagna e della Vuelta però vi dico che 6-7 dopo il Benelux potrebbero andare bene se il Benelux lo fate in prospettiva mondiale finale sì mondiale europeo allora 6-7 vanno bene cercate che c'è Van Aert Van Aert io ce l'ho squadra lo tengo lì fermo buono per la Roubaix per il mondiale per tante corsettine capito quindi pensavo che facesse il Benelux onestamente invece invece no Benelux perché poi per l'altro Van Aert cosa farà perché alla Filippe ha fatto il Bretagne e farà chi è alla Filippe farà per prepararsi al mondiale no che ci punta farà ha fatto il Bretagne e farà il Tour of Britain no sì Van Aert cosa farà non ho capito anche lui il Tour of Britain andiamo a vedere Van Aert te lo dico subito guarda perché non mi non mi convince quel ragazzo cioè cosa sta facendo Van Aert fa il Tour of Britain anche lui sì tutti lì vanno mi dico anche in Italia fare una gara metterla prima del mondiale una garettina a tappe giusta in preparazione andrebbe bene ma infatti la Filippe ha detto che quella lì è la gara migliore per preparare il mondiale per preparare quella è stata messa lì apposta proprio precisa sì chiaro escevano tutti comunque ripetendo perché ora avendo cancellato messaggi di quello che ha floddato la chat allora Moulin ha scelto Evenepul per la classifica Gronewegen le volate De Bont per le fughe Van Der San De Jolly poi Luca Pedias ha Asgren e Moritz tutte e due per la classifica e Ben Mesh se volano le volate le ho floddato anche tu hai messo tre per la classifica in pratica io ho messo no potrebbe fare qualche volata quelle più per me te tre per la classifica non ne ha messi ti ha messo un velocista lui ne ha messi tre per la classifica lui ne ha messi tre per la classifica sì ha fatto una tattica io ho messo un velocista uno per la classifica e uno per le fughe vittoria di tappa io mi sono messo invece il velocista e due due così possono fare bene 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 o male 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 e Moscon come questo è qua ah no Verles non farà male 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 farà il suo solito il suo settimo che va bene chi allora io vi dico che come ha fatto il Polonio io vi dico che Almeida per me è da vendere perché lui arriverà anche se fai Lombardia dovrebbe farlo ma tutte le gare ragazzi è già a fine contratto lui se ne va lui se ne va io non sono sicuro che Venepul vada a Lombardia con quella discesa non lo so non lo so non si sa non lo sa neanche lui secondo me secondo me Lombardia quest'anno lo salta io ti dico la verità va beh c'è andrà la prip sì ma detto questo Almeida secondo me non è a fine contratto l'ultima gara non gliela fanno fare da capitano Lombardia chiuderà allora Almeida vince il Lombardia dici sì no mi sbilanci mi sbilanci come è impossibile possibilissimo sono tutti bolliti lui è ancora fresco ora non farà niente sarà un po' in pausa e poi lancerà l'ultima volta Almeida vedrete 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 Almeida sta facendo il giro di Germania dove è arrivato il diciottesimo non ha fatto niente praticamente si sta riposando per il Lombardia e poi fa solo il Lombardia solo il Lombardia attenzione quindi io lo venderei poi se oh è chiaro Lombardia ho capito va bene va venduto perché Lombardia la Paris-Roubaix chiude questa stagione giusto e Lombardia è la gara prima della Lombardia allora se arrivate con uno o due cambi in più Almeida lo riprendete alla Lombardia no è addirittura dopo la Paris-Roubaix è l'ultima proprio infatti è l'ultima quindi nessuno avrà i cambi per Lombardia ricordate allora Lombardia scusate è l'ultima è vero perché il 3-10 c'è la Roubaix e il 9-10 c'è la cioè il è il è il Mondiale Roubaix vanno in una certa direzione la Lombardia è tutta un'altra cosa tutt'altra vabbè la Franco può anche la Chapelle il Lombardia è proprio un monumento che va tutto in un'altra direzione scalatori quindi tutto in un'altra cosa quindi uno deve fare la squadra da zero lì sarà un problema grosso con due corridori speri che siano il primo e il secondo bravo nei piazzi 3-4 alla Roubaix e 3-4 alla Lombardia devi sperare che tutti questi 3-4 arrivino in un 1-10 adesso sarà la morale non ce n'è sarà così detto questo il percorso è diverso se arriva al Bergo poi l'analizzeremo il percorso vince Almeida in volata su Pogaccio c'è anche Pogaccio non so non è detto che vince Almeida uno da prendere al posto di Almeida allora in questo frangente come ti ho detto no Pogaccio non lo vende di Leo non lo vende perché farà l'europeo sia la colsa in linea l'europeo è facile la Crono non è la Crono non è attenzione ma già è vero non ci pensavo c'è solo il mondiale la Crono l'europeo è troppo facile io Pogaccio non lo so ho una sensazione che non lo venderei mai lo tirerei lì tutto l'anno anche perché frutta fa interesse Pogaccio lo tieni lì in staking allora uno da prendere al posto di Almeida io ti consiglierei da questo bene luxo di tirarci fuori un nome che ti porti avanti fino alla Rouvet potrebbe essere Stuyven ad esempio che ti fa tutte le gare Asgren Stuyven Evenepul potrebbe essere Pedersen Almeida costa 30 watt mi sembra Asgren costa 30 si apposta ci guadaglia anche 4 questo questo è un consiglio che ti diamo io ho preso Asgren visto che le fa tutte ovviamente me ne pentirai non te ne pentirai Asgren è un bel corridore ragazzi detto questo quanti argomenti si è dato stasera si è si è si è troppo allora ragazzi se ci avete le ultime domande staking si scopre Fede esperto di cripto e la e la no le seguo le seguo so so ho qualche investimentino dai diciamo così allora io ho venduto Bettiol per prendere Asgren e qui ha fatto bene perché Bettiol per chi non lo sapesse lì si è riacutizzato il problema al colon e e quindi ha finito la stagione 2022 si quindi 23 pure Carapaz Carapaz non lo so sinceramente se ha finito la stagione è scritto lui è cotto è un'arto che ha salutato il ciclismo allora Carapaz lo rivedremo nel 2022 Fede Ulissi da vendere io vi dico di sì anche se magari sul finale di stagione però Lombardia per me è duro per Ulissi potrebbe far bene in tutte le in tutte le gare italiane che però non sono nel calendario fantasy cycling però Ulissi asgren grande truffa di Fede all'asta pazza ragazzi l'ho preso a otto l'ho presi asgren il problema è che porca troia Lorenzo mi sta recuperando perché alla volta c'ha c'ha Roglic c'ha diversi velocisti e praticamente mi sta recuperando non c'ho nessuno alla volta c'ha Carapaz che zero punti maledetto Pogac ha un lulù per riprenderli per riprenderli e fare bene il competitivo una tattica che può pagare e dipende però in the face quanti quanti cambi sai perché io ho fatto così se ce l'hai cambi è giusto che tu li faccia io ho venduto Pogacar ho ripreso alla Philippe perché non ce l'avevo ma ho fatto secondo va bene e ho venduto Pogacar per fare a cassa e fa la squadra un minimo decente per il Benelux questa è la tattica va bene ma l'importante è quanti cambi hai se vai sotto 6-7 non lo fare se rimani Benelux fatto con 6-7 cambi e sei proprio al limite ma va bene ma va che scoperte quando uno no no non ho capito per prendere Asvi ho scambiato Ben chi Ben? ora c'è un momento di vuoto Ben O'Connor O'Connor Ben O'Connor ha fatto bene Ben O'Connor da scambiare giusto ha fatto benissimo gli amori gli amori al fantasycling durano no durano iniziano e finiscono ricordo è il mio limite infatti io invece tengo sempre i soliti perché sono uno che fa il Benelux è il Lombardia che non si è Beneful non è facile perché il Benelux è l'Ombardia è vero è vero è verissimo Moric lo fa l'Ombardia no un po' d'anzi anche lui ragazzi voi state sottovalutando la classica di Francoforte che lì la vicinanza veramente schiererà 3 2 a 5 no nessuno nessuno allora Benelux il Benelux vediamo un po' si spera venga cancellata no no non 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 viene fatta no Moric non non è a Lombardia non è a Lombardia Moric è difficile per ora però sì sì io penso solo Fulsang ti ricordi di uomini di uomini di un certo tipo penso solo Fulsang sto guardando Irci anche Irci probabilmente e Moscon Gianni Moscon via se ne hai già trovati tre dai sì Gianni Moscon Irci e Fulsang ti possiamo dire Fabbro e Formula per venderli o sarebbe utile avere per il finale stagione attenzione ti do un altro nome il grandissimo Kelderman beh Kelderman non te lo commento non te lo commento Lux Kelderman sì ma è bene non lo ho nemmeno visto io non lo commento questo dai va beh però è un nome è rimasto con quattro cambi è un nome non ha detto che li vincerà no no è un nome è un nome è un nome allora e Venepu sta andando forte chiude la stagione col Beniox i mondiali non li fa quindi il Rubio no l'Europeo 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 assolutamente non penso proprio l'Europeo ragazzi andate a vedere il percorso a Trento comunque ragazzi è facile non è difficile l'Europeo non credo che ci sarà una selezione in mezzo però comunque ragazzi ma siamo io ti ricordi come si è esordito l'annata no col discorso che si diceva io dicevo almeno io dicevo che Venepu non mi sembrava un corridore da corsa a tappe ma più uno da classico ma io più che lo vedo più che sono convinto questo è un treno in queste gare del Belgio parte da solo alla Van Der Poel cioè io lo vedo così cioè io non ce lo vedo sai a fare classifica a fare il Mortirolo il Passo Gabbia cioè non è veramente forse sono io siamo avanti eh commenta questa squadra io lo vedo sempre più così Teonisse Nevene Pulmoni Charles Green Stuyve Moscon Sangha Pérez ma cos'è scusami Leonardo è una Lega o è il campionato fammi aprire ho paura ho paura che cazzo hai paura che ti faccia 3.000 punti hai iniziato ieri dai hai iniziato ieri sei millesimo un cassino com'è possibile c'è una squadra del genere no no ti recupera ti recupera ma è un cassino te ti vedi la sera perché poi io gioco perché tanto la mia posizione non conta nulla perché poi se arrivo a premi comunque premi le vince quello dietro di me lo faccio sì per fare un po' di competizione però la sera è una cosa da ammalata di mente perché ti metti lì a guardare chi poter comprare fa incastrare più gare possibili per spendere meno cambi c'è una cosa una follia e il primo che è in campionato a me il primo no vabbè ma è giusto è giusto il primo campionato che è mix tale mix con 50.371 punti vediamoli un po' il Benelux vediamo un po' che la squadra c'è tu guarda la squadra c'ha questo lì io ve la leggo la squadra del primo in classifica team Merlier e Venepul Koji team Valens Stewart Bissinger Morich Jonathan Miller grande squadra c'ha Morich Valens e Venepul che ce l'ho anch'io team Merlier ce l'ho anch'io Bissinger ce l'ho anch'io però non c'ho Stewart ad esempio ragazzi avrei un assurdo l'inizio dai il secondo è messo mamma mia quando costava un il secondo chiudiamo perde la scettura assolostivia chiudiamo con questa domanda di Lorenzo Colombo chiudiamo così che sono due ore e diciotto dai allora no Van der Poel no quando torno secondo me prossimo anno c'ha l'ernia quindi io non penso neanche mondiali ma io penso che sia finita qui l'avventura per quest'anno non lo so erano le domande io ho risposto è probabile quando guarda di solito non diciamo niente sulle condizioni dei corridori stanno sempre zitti questa volta è venuto fuori tutto subito perché ha saltato mondiale in bar di sole di mountain bike Benelux dicevano lo farà lo farà no non lo farà e ora non lo so secondo me è finita qui sprecare tre ore per prendere gente che fa zero punti ha ragione Baba Yaga 30 campi sono pochi no è un solo 30 oh ma che è un solo 30 no sì va bene sono pochi dai vanno aumentati come le fughe vanno un po' diminuiti vanno aumentati vanno presi in considerazione queste critiche no sa cosa stavo pensando non so ora vi lancio un'idea così mi era venuta la follia mentre ero in montagna la sera no in solitudine meditavo no meditavo sarebbe bello però probabilmente lo proveremo a fare dal 2000 fine 2022 il fantasycling mantra ovvero dover per forza essere obbligati a schierare un certo tipo di corridore con i ruoli come ha detto Luca cioè fare una 30 corridori ok la rosa di 30 corridori ma avere 7 velocisti 3 cronomen 7 uomini da 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 corsi di un giorno e 7 uomini da GT solo nella rosa o anche nelle formazioni questa è la rosa e poi nella formazione in base alla gara c'è un tipo cioè te puoi scegliere che formazione fare come un po' a fantacarcio 433 442 e te magari ci metti un velocista 3 gregari e 3 uomini a classifica oppure cioè vari moduli e in base al modulo che scegli hai un bonus maggiore in base alle vittorie che fai a punti che fai è chiaro se te scegli modulo velocista dove c'hai 3 velocisti mi era venuto in mente di dare dei bonus se magari nelle tappe in cui si arriva in volata non so qui i labbonati meditatore qui i labbonati ti chiedono contro cioè dice ma il cambio in più di ringhelli il cambio in più di scritto al canale ha arrivato la campanella ma allora se era era una truffa quindi tutti che tutti che avevano puntato su quel cambio in più figa la roba di fantasacchi in mantra mi piace non hai risposto però lo sapevo lo sapevo è una cosa che ci sto pensando poi magari guarderemo di strutturarlo bene lo lanceremo nelle leghe poi se è una cosa che è figa si butta anche sul cambio però non hai risposto alla domanda sua cosa il cambio in più cioè hai fatto una truffa però ora non vai neanche rendere conto alle persone che te le chiedono non è che ho fatto una truffa non è che ho fatto una truffa è che ma i 4 euro al mulagli si l'ho offerto davvero allora fede se non lo dai vergogna allora non c'è modo di tracciare dall'applicazione a uno che mette l'iscrizione su youtube o la campanella non c'è modo ho chiesto al programmatore se ho cercato di fare una sorta di pop up nell'app per fare iscriviti al canale prendi uno scambio in più però non c'è modo di tracciare quindi rischieremmo di fare una cafonata una stronzata e quindi è infattibile per quello cioè tanto male vi si dà un cambio bonus a tutti comunque alle 15 dice una cosa giusta che tanti ancora di voi tipo anche luca e anche indafese non hanno ancora capito che questa cosa va avanti da due anni cioè i cambi sono sufficienti solamente perché per due anni in cui c'è l'app non c'è stata mai una stagione regolare altrimenti i cambi non sarebbero mai stati sufficienti basta aumentare basta aumentare ogni tre gare se c'erano i due gare i canadesi non mettevi nessuno se c'era l'hamburgo non mettevi nessuno io non sono d'accordo se c'era il tour de guanzì il guanzì chi mettevi le guanzì scusa dove li trovi scusa io non sono d'accordo perché no ma quello è giusto però se guardi le squadre che sono state fatte fino adesso hanno sempre praticamente corso in nove corridori praticamente con 5 4 5 top quindi se non ci fossero state queste cancellazioni la gente era costretta a iniziare da prima a fare delle squadre medie lo so però infatti l'idea guarda ora anticipando l'idea ogni gara che uno partecipa un cambio invece io metterei al massimo ogni 3 3 ogni 3 3 cioè ognuno una ogni 3 3 perché uno così è ogni gara a cui partecipa è un premio diventa troppo facile infatti non è facile non è facile non cambia secondo me perché almeno può partecipare a tutte le gare ora è avuto due stagioni in cui mancano l'anno scorso un sacco di gare quest'anno prossimo anno il calendario dovrebbe essere completo sono state sono state aggiunte anche il down under ma non puoi sapere come sarebbero questi cambi con una stagione regolare non lo puoi sapere no ma sicuramente sarebbe come dici tu Mulla il problema è che a quel punto lì uno giustamente vedi chi è stato più furbo nel gestire i cambi già dall'inizio da metà in poi insomma da due cambi ogni 3 gare cioè il fatto è che ogni gara a cui partecipi devi avere un premio uno è una cosa matematica è una cosa semplice però bisogna veramente stare attenti che non diventino troppi perché se diventino troppi poi dopo è no non è troppi al massimo non ha senso non ha senso perché poi ci sono ci sono le leghe come facciamo come facciamo la nostra che sono scambi limitati e quella che vedi hai ragione al massimo quello ogni gara ha un cambio semplice hai partecipato a una gara hai partecipato a una gara e hai un premio e un cambio semplice non è che non aumentano di tantissimo c'è qualche cambio in più ora sono due cambi ogni tre sarebbe ogni ogni gara che fai ogni tre è come un premio partecipazione l'idea l'idea che mi era venuta era quella che mi era venuta nella l'idea che mi era venuta era infatti per questo cioè il discorso alla mettere un pochino più cambi noi abbiamo notato che nell'applicazione si fa c'è siamo raggiunto non so quanti 40.000 qualcosa non lo so quanti siamo però aspetta quanti cazzo siamo campionato 40.793 che è la somma dei due anni quest'anno hanno giocato in mi pare 23.000 24.000 però poi se andate a vedere la formazione alla vuelta sono all'incirca 10.000 perché perché uno si iscrive arriva 8.930 li passa la voglia e non partecipa oppure finisce i cambi e non gioca più ma i cambi è un secondo livello secondo me perché all'inizio c'è 30 cambi capito e come questo fenomeno c'è all'inizio quindi in primis una scrematura viene fatta da io partecipo io arrivo in fondo alla classifica io non ho più voglia e smetto subito e lì va bene ci sta tanti probabilmente non capendo il gioco perché comunque tanti è un gioco nuovo è due anni quindi tanti fanno anche le squadre almeno se guardo quello che faccio io tanti fanno anche le squadre ad hoc per i vari elementi quindi magari se tipo fai la squadra per il monumento per il monumento quando c'è il giro d'italia neanche la scrivi sì 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 vabbè io facevo il trofeo monumento poi mi sono scusato di mettere la formazione alliegi perché ce n'ho troppe non ce la faccio a starci dietro è finita l'estero la difficoltà la difficoltà che in teoria non c'è a calendario normale perché c'è l'olimpia di quest'anno è che quando c'è un giro da tre settimane in teoria delle gare dentro non ci sono c'era qualche anno fa il giro di california durante il giro d'italia però oggi in california non lo fanno più in teoria anche questo quindi quando c'è un giro come il tour il giro d'italia o la vuelta non ci dovrebbe essere il problema perché ora il problema qual è? che tanti corridori ce li hai vincolati in squadra non le puoi scambiare perché stanno facendo la guerra è quello più caro quella è una complicazione che fa solo bene al gioco si fa bene al gioco perché vedi io sono deciso se prende Pedersen o Stuyven questa è la mia decisione se non avessi corridori vincolati alla vuelta probabilmente le prenderei tutte e due sprecando un cambio in più ma detto questo i cambi è vero che magari dare un cambio in più a calendario completo cioè invece che ogni tre gare due ogni tre gare tre a calendario completo potrebbe essere ottimo perché comunque invoglia la gente a giocare un po' di più ok? che è? è mezzanotte sì sì 2 ore e 28 io direi che è il momento però poteva essere un'idea anche quella di creare dei ruoli all'interno del Fantasaki in modo tale che te pur avendo più cambi devi fare delle scelte cioè non puoi prendere Bernal Roglic e Carapazze perché magari di quei tre ne devi prendere solo uno o due ipotesi sì quella dei ruoli è molto bella come idea e quindi la gente poi alla fine avendo più cambi ma deve essere costretta a scegliere ugualmente quindi si crea delle squadre mai uguali quello è l'obiettivo creare squadre sempre diverse è l'obiettivo anche del capitano di giornate giustamente Papai Raga dice andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti vorrebbe dire chiudere salutare salutare dopo due ore e mezzo mezzanotte andiamo avanti la formazione solo velocisti t'abbiamo sgamato eh Berta con la formazione eh beh certo io l'ho fatta cinque per quella quindi una dovevo mettere dovevo mettere solo velocisti attenzione la la furbata di Polis F11 ma se prendi tutti e trenta di una squadra sei apposta tutto l'altro e in teoria è vero il problema è che fai poi dipende dipende da Deconi che vinci il gioco vabbè sarebbe altra attestà questa no lui era da nonostante interessanti poi basta davvero Dej che diceva la cosa che poteva è scambiare i corridori che fanno una forza ma se non l'hai schierata li puoi scambiare secondo me giù sì questo lo so l'ho schierata assolutamente perché non ha senso ma non lo so non l'ho schierato sì non l'ho schierato non l'ho schierato quindi per me non allora in campionato non va bene nella Lega nella Lega se non l'ho schierato scusa se lui sta correndo perché lo puoi scambiare fermi fermi vi stoppo vi stoppo te compri Iwan Mulla però non lo schiera il Giro d'Italia lo paghi 40 Iwan casca prende meno 5 e ti va a costare 35 te non lo puoi scambiare perché devi beccarti la minus anche se non l'hai schierato ok in campionato è infattibile ma nelle Lega d'asta come noi che si è fatto l'asta e te Iwan l'hai pagato 300 a te non te ne frega un cazzo se perde 5 di valore rispetto al credito di un campionato ok quindi a te se te non lo schieri però in Lega devi poter scambiarlo Iwan se non l'hai schierato e sta correndo il giro perché te della minus non ti interessa l'asta ok però nelle Lega d'asta sì nelle Lega d'asta sto parlando io sono molto più flessibile di voi dai voi siete integralisti fondamentalisti anche nonostante dovrei essere io invece siete ma no sono tutte cose che nel campionato sono fondamentali per per mantenere un po' più difficile anche il gioco perché se no se fosse come la Lega nostra che ogni gara ognuno si sceglie i corridori ma lì è un estremo dai molto più semplice non mi puoi fare due esempi che sono due estreme però Dejo sta dicendo però lo stesso Iwan magari aumenta di valore ho capito ma se te non schieri Iwan no ma se te non schieri Iwan vedi che ci vince 3-4 tappe lo tieni lì perché sai che aumenterà di valore ma se te vedi che Iwan casca e si ritira prima del calcio del giro lo vendi capito così dici vai così non ci rimetto e non va bene non va bene perché se te c'è un corridore e il corridore fa cagare è giusto che viene depreciato e è giusto che chi ce l'ha subisca la minusvalenza e se no il bello del giro è questo e che Mullah farebbe il campionato a scambi in lingua no no vabbè io farei un po' io l'anno scorso ho fatto anche il campionato e sono andato anche bene non è che quest'anno ho fatto diverso non ne faccio Mullah ma io faccio tutto però a me mi piace cambiare capito non riesco a fare sempre le stesse stesse cose e voi è cazzato con la nostra Lega perché non riesce siamo un troppo siamo un set sei set non riesce non c'è mercato è un mollato e quindi non lo faccio più non 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 faccio più è andata bene perché se si faceva il mercato come volevo fare infatti non c'è più mercato non c'è più basta ma come non c'è più mercato non l'hanno voluto sì perché ci sono corridori perché io sono in protesta ci sono corridori oppure c'è i vines storie non sto più giocando hai sbagliato Mullah perché te non ha voluto fare il mercato ma io ti faccio vedere che se non mi interessa più non mi interessa più non mi interessa a noi non mi interessa quel modo di giocare lì capito ho bisogno di altri cose sì ma non me ne frega niente io ho già vinta quella Lega l'ho già vinta cioè ormai è passata capito cioè non è quello il problema non mi interessa il modo in cui giocate voi poi gioco altre cose capito diverse ho bisogno di nuove stime e lì non si fa nulla fa la squadra all'inizio dell'anno una sera così poi fa più di un ottobano sta a guardare così fuori non c'è nessuno tre corridori sconosciuti più di ma come scusate i sette non sono un sacco di corridori no non è così non ti chiedo non ti chiedo no ma io ne faccio una dieci ne faccio ci sono i corridori allora Marco Seminara mi ha chiesto una cosa è che non puoi ribaltare la fastidio aspetta Marco Seminara come a borghese a quattro ristoranti vabbè mi ha chiesto una cosa quello che mi ha chiesto Marco è complicato perché vorrebbe dire ai programmatori di fare veramente un lavoro certosino dentro l'app per andare a vedere tutti gli scambi e tutte le cose per capire le minus diventa un che cosa ha chiesto ha chiesto ma a tracciare gli scambi se sì nel caso se lo scambio perde o aumenta di valore cioè praticamente se io faccio gli scambi di valore è fattibile ma diventa la nostra folle quindi direi di no nella nostra rega c'è rimasto fuori di essere a due ore e trentaquattro a mezzanotte c'è Baggioli con domani che si ricomincia a lavorare c'è Jakobsen fuori aveva comprato c'è Oggi Valgren non mi interessa i 6 che sono non mi interessa non partecipo più è già tanto se metto le formazioni solo perché quando me lo ricordo e poi c'è c'è Storer c'è Arendtsman fuori non mi interessa ma avete buon contatto l'assegurazione io ho buon contatto perché non sto più giocando in pratica quindi va bene non va bene è giusto che tu perda ma perderò perché mi avete fatto fare la serie della guerra io so voglio solo rompere i coglioni non so se è capito ma hai rotto i coglioni vabbè perché mettere i bastoni tra le ruote perché sono in protesta da due anni questa è la formazione con cui mi sono presentato alla guerra io il primo anno ho vinto l'anno scorso dopo mi sono ritirato e quest'anno sono invece in protesta quindi pensa te con quella lega lì che rapporto c'è è un incubo non la farò mai più nemmeno se mi sparano la rifaccio la lega comunque ascolta io mi sono schierata alla guerra con Carapaz 0 punti della Cruz 100 punti per grazia di Dio Van Barre non so dove ha fatto 137 punti probabilmente per sbaglio Bouchard 94 Rudy Mollard 11 e Gesù Serrada 208 l'unico che mi tiene avanti e Stibar 0 punti questa è la mia squadra sì e in programma ne hai 0 però bravo e devo competere contro Lorenzo Marrucci che ha 500 punti in classifica mi sta rimontando quella merda e lui c'ha Roglic Valverde vabbè chi sei di te Luca Samilton 0 punti Magnus Kurt Nielsen Dainese che fa le volate Gino Grandi squadre Ioni Sagir ho capito la mia speranza è che vinco non so vinco con Asgren il campionato del mondo possibile vabbè comunque io sono con Francesco Pirra che dice andiamo a letto perché io sono stanco cioè io domanda se da Marra D'Uno si fa o no allora abbiamo parlato con un ente che organizza eventi e non è per covid per questo per quell'altro per la la vicinanza all'evento perché si vuole la fa a metà settembre è veramente molto difficile ci hanno consigliato al massimo di far una cena perché la scalata del serra è per covid e anche non da preparare per lo meno sei mesi prima cioè siamo d'accordo con questo ente che organizza eventi ma deve essere fatta una cosa per bene perché c'è gente l'indafese ha capito subito cioè non c'è problema non c'è bisogno che spieghi più di tanto ha capito già subito vabbè infatti questo potrebbe andare bene perché de-responsabilizza noi perché mettiamo caso che ci arriva Baccani Priam bicicletta e si ammazzano di sceso dal serra si va tutti in galera e quello è più e quindi va organizzato anche a livello legale capito va organizzata bene però una scena si può fare una scena è fattibile con responsabilità di nonna Iva responsabilità tutta sulle spalle del proprietario di nonna Iva nonna Iva si mette anche 4-5 cessi grossi sai ve lì usa e getta fuori da nonna Iva perché la cagata veloce dopo nonna Iva è facile e alla modica civa di qua quant'è no ma la cena dice Samuele io e te telecronica telecronica della cena si fa si si fa la telecronica della cena capito noi vediamo solo che il baccaro è obbligato chi se ne frega del serra vogliamo ubicarsi da nonna Iva andrebbe meglio e andrebbe meglio comunque di Zaccari basta dai basta ma che ma che dite ma voi non avete capito con che vita che fa cioè qui c'è Baccani c'ha delle esperienze sia in bici sia guarda che vale va forte in bici va piano in bici infatti loro forse non hanno capito non gli è chiaro è come è come Marcel Lopez che sottovalutano con Ian Marten lo stanno sottovalutando e voi loro sottovalutano Baccani ma con chi pensate di parlare no Baccani è uno d'esperienza uno che d'esperienza sia in bicicletta perché qualche gara l'ha fatta da giovane correva e è di alcol allora ragazzi facciamo così sotto Moulin domanda da sotto il commento da commentare sotto nel video che domanda facciamo e si chiude quella domanda io voglio sapere voglio sapere oggi se uno fra Eking o Marten farà podio alla volta quindi concludiamo nei commenti sotto e facciamo partire i nostri banner iscrivetevi al canale mi sento un po' favicei quando faccio questa cosa via iscrivetevi al canale e mettete mi piace aiutate a far crescere il canale e commentate sotto alla domanda del mulla Marten Eking salteranno no o rimarranno se uno di due faranno un farappoglio se uno di due farà podio se uno di due farà podio io te la camuffo un po' salteranno o rimarranno nel podio uno dei due punto di domanda ciao ragazzi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti